Allora, per parlare di Spinoza utilizzerò delle dispense che ho prodotto per la scorsa vacanza filosofica, quella del 2019, e che metterò a vostra disposizione. Si tratta in particolare dell'appendice alla quarta parte dell'etica amore geometrico che ho dimostrata una delle principali opere di Spinoza, opera tutt'altro che semplice da leggere, perché vi ho detto Spinoza scrive in latino, ma al di là del latino, insomma, noi lo leggiamo in italiano, ma il punto è che l'opera si presenta alla stessa struttura degli elementi di Euclide, ovvero Spinoza ha una pretesa, questo è il suo compito, il fine che lui si prefigge, e in qualche maniera ci riesce, di trasformare la materia filosofica, l'etica, in scienza, in un discorso simile a quello della fisica, che dunque può essere spiegato, espresso in termini quasi matematici, geometrici anzi per l'esattezza, visto che stiamo parlando di Euclidea, quindi lui procede in questa maniera, c'è rinunciato, la tesi, ci sono poi una serie di argomenti a sostegno della tesi, una serie di corollari, di definizioni, quando servono, anzi la prima parte contiene le definizioni, il lessico, la terminologia, ed è tutto molto esatto, razionale, ma va ponderato, come si va a ponderare con grande attenzione un testo di geometria o di matematica. Noi cercheremo di rendere il discorso il più agevole possibile, però alcuni termini li dobbiamo definire, li dobbiamo studiare con molta attenzione. La quarta parte dell'etica è dedicata alla servitù umana, il titolo è «De servitude umana, seu de affectum veribus», sulla servitù umana, ovvero sulla forza degli affetti, e riguarda appunto lo studio delle cosiddette passioni, che è il tema che ci interessa più da vicino. Si tratta di 14 proposizioni, io ora leggo la prima proposizione, dopodiché spiego la proposizione e delineo, traccio una sorta di vocabolario. Ci dobbiamo impadronire in questa prima lezione del lessico spinoziano. Nelle successive lezioni poi andremo a leggere e a commentare tutte le proposizioni contenute nell'appendice, che ci danno, come dire, un quadro più o meno completo della materia «Passioni versus ragione» è la materia che stiamo studiando nella questione che vi ho dato da fare a casa attraverso il forum, attraverso una classe virtuale. Allora, proposizione numero uno. Tutte le nostre tensioni e desideri derivano dalla necessità della nostra natura in modo tale da essere intellegibili mediante essa sola, in quanto loro prima causa, ovvero in quanto siamo una parte della natura che non si può concepire per sé, indipendentemente dagli altri individui. In questa proposizione, tre righe, c'è in estrema sintesi l'intera visione spinoziana, poi cercherò di rendervene conto. Per adesso andiamo a definire alcuni termini che ci servono appunto per capire fino in fondo questa proposizione. Il primo termine è affetto, adfectus, da afficio, che vuol dire influenzare, termine che usiamo anche nel linguaggio corretto. Provare affetto vuol dire provare benevolenza, attaccamento per una persona, ma essere affetti, afflitti da una malattia, per esempio, o da una passione, è un termine che usiamo anche volendo in senso negativo. Comunque, per Spinoza, affetto significa, in generale, moto dell'animo. Un moto dell'animo, in generale, di cui si può non essere o essere consapevoli. Un affetto, dice Spinoza, che è una passione, cessa di essere passione non appena ce ne formiamo un'idea chiara e distinta. Dunque, affetto è termine generico. Il fatto che esso sia una passione o meno dipende dalla consapevolezza che si ha di questo affetto. Nel momento in cui me ne formo un'idea chiara e distinta, nel momento in cui lo conosco, lo riconosco per quello che è, esso cessa di essere una passione, cioè io cesso di subirlo, perché il termine passione, pathos, riguarda proprio il subire, l'essere passivi rispetto a quel moto dell'animo. Il secondo termine, tensione con atus, in latino. Moto dell'animo di origine endogena, così l'ho definito, endogena nel senso interiore, che viene da dentro. Ed è un moto dell'animo senza consapevolezza di sé. Per esempio, il naturale tendere del neonato verso la madre, verso la tetta materna, è una forma di conato. Il conato riguarda l'essere umano, ma potremmo dire per estensione riguarda tutti gli organismi viventi, comprese le piante, oltre gli animali. Il desiderio, il terzo termine, cupiditas, tensione accompagnata dalla coscienza di sé. Quindi questo è un moto dell'animo, un tendere dotato di consapevolezza. Mentre il tendere, il conatus, puro e semplice, non implica la consapevolezza, il desiderio invece è consapevole di sé. Io non posso non essere consapevole della tensione verso qualche cosa, verso un oggetto, quando lo desidero. Se lo desidero vuol dire che ne sono consapevole. Lo voglio, e lo voglio consapevolmente. Allora, il desiderio, dunque, è tensione accompagnata dalla coscienza di sé, volta al mantenimento oppure all'accrescimento della propria potenza vitale secondo natura. Vuol dire che io desidero qualcosa che mi fa sentire più potente, o che suppongo mi faccia sentire più potente. La dimensione del desiderio, in Spinoza, non è solo mentale, o non è solo fisica, ma è psicofisica, per così dire, psicosomatica. Quindi io desidero con la mente e con il corpo, e mente e corpo sono due facce della medesima medaglia. E' molto moderno il pensiero di Spinoza, da questo punto di vista, se pensate che il termine psicosomatico è un termine che risale a Freud, alla psicanalisi freudiana, che dunque viene introdotto alla fine dell'Ottocento, all'inizio del Novecento, no? E' un termine che, per così dire, interrompe, rivoluziona, no? Ecco perché si parla di rivoluzione psicoanalitica, perché rivoluzione è una concezione profondamente radicata nella filosofia e nella psicologia occidentale, quella basata sul dualismo anima-corpo, di origine platonica, lo conosciamo bene, ereditato poi dal cristianesimo, e ancora ai tempi di Spinoza, nel Seicento, ripresa da Cartesio, Cartesio che distingue in maniera dualistica la res cogitans, il pensiero, la mente, l'anima, dalla resa extensa, il corpo. Dunque, in questo senso, Spinoza anticipa indubbiamente il pensiero contemporaneo. Veniamo agli altri termini, il quarto e il quinto, il quarto è Letizia, gioia. Per Letizia si intende una sensazione che accompagna il passaggio da uno stato di minore ad uno stato di maggiore perfezione. Ciò che mi fa stare bene è ciò che mi fa acquisire potenza. Facciamo un esempio banalissimo. Il cibo, un buon cibo, quando sono affamato, mi provoca Letizia, perché al cibo collego, consapevolmente, io uomo, consapevolmente un animale, e provo a gioia, indubbiamente, collego uno stato di benessere, l'adavenire, ma comunque colmare una mancanza, mi fa sentire deprivato, più debole. Quando mi sento più forte, provo gioia. Il termine che fa da pandà a gioia è tristizia, tristezza, che è la sensazione opposta, cioè una sensazione che accompagna il passaggio da uno stato di maggiore ad uno stato di minore perfezione. Vedete, molto matemaggio, metrico-matematico. Dal minore al maggiore, gioia. Dal maggiore al minore, tristezza. Dalla maggiore alla minore perfezione significa che sto perdendo potenza. Una sorta di emorragia di potenza. Vedete come gioia e tristezza non sono collegate, non sono sensazioni collegate a qualcosa di astratto, a dei termini astratti, ad un bene o un male da decalogo mosaico. Cioè, provo gioia perché mi dicono che quella cosa lì è bene, tristezza perché mi dicono che quella cosa lì è male. L'etica di Spinoza è profondamente radicata nella natura e dunque i termini vanno invertiti, ovvero chiamerò bene ciò che mi dà gioia, naturalmente gioia, e chiamerò male ciò che mi provoca tristezza. E' una concezione che assomiglia, per alcuni versi, a quella epicurea, se vi ricordate, o a quella stoica. Tutto è secondo natura. Katà, te, fyshin, in greco. Allora, è il piacere che io chiamo bene, dice Piccolo. E' il dispiacere quello che io chiamo male. E lo chiamo bene, lo chiamo male. Secondo natura. Cioè, io sono il primo testimone. Termini empirici, fisici, concreti, organici. Di che cosa significhi bene, di che cosa significhi male. Veniamo agli altri due termini, al sesto e al settimo, collegati a gioia e tristezza, amore e odio. Amore, che cos'è? E' una letizia accompagnata dall'idea di una cosa esterna. Così come l'odio, odium, è una tristezza accompagnata dall'idea di una cosa esterna. Che cosa significa? Significa che io associo quella sensazione di letizia, di gioia, ad una causa esterna. La causa esterna, quindi ulteriore rispetto al sottoscritto. La causa esterna può essere una persona, per esempio, oppure un qualcosa, anche un oggetto, o una situazione particolare. Insomma, quando la causa non è endogena, non è interna, non è interiore, ma è esterna, io chiamerò quella sensazione di letizia, di espansione, la chiamerò amore. Chiamerò, d'altro canto, quella sensazione di tristezza, cioè di privazione, di che crescita della mia potenza, della mia forza vitale, esistenziale, odio. Dunque, se mi si avvicina la persona amata, amata, anche amata in senso molto prosaico, insomma, un po' come fa l'animale quando il padrone, che il cane adora, per esempio, ma collega comunque quel gesto del padrone, dell'uomo, lo collega al cibo. D'accordo? Dunque, l'amore per la causa esterna, che è l'uomo che si avvicina per dare il cibo all'animale, è una letizia che l'animale inconsapevolmente, qui evidentemente, associa ad una causa esterna. Noi umani lo facciamo consapevolmente, quindi amiamo o odiamo un oggetto esterno, una persona, quando a questa persona associamo la possibilità di accrescere la nostra potenza oppure di perdere potenza. tutte le passioni umane per Spinoza sono, diciamo prima, assolutamente naturali, ovvero rientrano a pieno titolo nel dominio necessario della natura. Natura, qui lo scriviamo con la lettera maiuscola, natura è il tutto. Tutte le passioni, dunque, sono intellegibili. intellegibili vuol dire che sono potenzialmente comprensibili e spiegabili attraverso l'uso della ragione, ovvero riducibili a cause naturali, a leggi naturali. a noi un discorso del genere, a noi moderni, ci sembra in qualche maniera assolutamente familiari, perché noi siamo abituati ad una concezione tutto sommato laica, scientifica. Pensate alla concezione delle neuroscienze, oggi parliamo di endorfine, di ormoni, dell'ormone della felicità, e dunque questo tipo di discorso non ci sorprende più di tanto, il fatto che amore, odio, gioia, tristezza, che comunque tutte le sensazioni hanno delle cause organiche e naturali. Beh, per un uomo del Seicento, Spinoza, e appunto è un uomo del Seicento, un'affermazione religiosa è assolutamente rivoluzionaria e lo pone in contrasto con quella che è la mentalità dominante, ovvero l'etica si basa sulla religione, quindi i termini amore, odio, gioia, tristezza, tutti i fatti dell'anima sono associati ad una natura ulteriore, che non è quella fisico-meccanica in termini cartesiani, ma è quella dell'anima e l'anima appartiene ad una sfera altra, ulteriore rispetto a quella della natura. Dunque, il ridurre i fatti dell'anima, fatti psichici a fatti naturali, è un'affermazione rivoluzionaria che mette Spinoza in rotta di collisione con quello che è il pensiero dominante della sua epoca. Adesso capite anche il motivo, iniziate a capire il motivo per cui Spinoza è un filosofo maledetto, cacciato dalla comunità ebraica di Amsterdam alla quale apparteneva ma anche cacciato dalle altre comunità cristiane guardato come un eretico filosofo assolutamente pericoloso. Definisco altri termini e poi do una serie di proposizioni e per oggi ci fermiamo qui. Allora, per Spinoza esiste un'unica sostanza, il termine sostanza, res, se vi ricordate in Cartesio le sostanze erano due, ovvero le sostanze erano molteplici, di due tipi, quella pensante e quella estesa. per Spinoza il termine sostanza che si riferisce a ciò che si regge da solo. Sostanza è quella cosa la cui causa è interna alla cosa stessa, cioè non ha bisogno per giustificare la sua esistenza di altro se non che di se stessa. ecco. Allora, il termine sostanza cioè ciò che sta in piedi da solo, substanzia, ipocheimenon è il termine che usa Aristotele, può riferirsi ad una cosa sola e che cos'è questa cosa sola? È la natura nel suo complesso, la natura nel suo complesso il tutto è Dio. Questa è un'affermazione devastante, terribile, in un mondo che crede ad un Dio che è altro rispetto al mondo, un Dio che è trascendente rispetto al mondo. Ora, Spinoza in questo anche qui in questo caso lui va contro sia al pensiero ebraico che al pensiero cristiano e riprende in qualche maniera il pensiero dei greci io sto pensando in particolare ai presocratici allo stesso Parmenide di essere ce n'è uno solo ma se l'essere è il tutto cosa c'è oltre all'essere? Se la natura è il tutto Dio è la natura e la natura è Dio ovvero non si dà una seconda una terza sostanza ulteriore trascendente rispetto a Dio o alla natura. È un concetto questo che abbiamo già studiato per sommi capi abbiamo ritrovato in Giordano Bruno che è un autore che Spinoza conosce. Mente e materia ovvero il pensiero e l'estensione della materia sono i due termini che ha usato Cartesio allora che cosa sono? Ecco per Spinoza sono due degli infiniti attributi della sostanza cioè la sostanza è una sola è un tutt'uno la quale si manifesta attraverso modalità per così dire gli attributi che a noi è dato percepire le modalità sono infinite la sostanza è infinita quale limite vorremmo mettere all'universo alla natura a Dio al tutto dove finisce l'universo dove finisce Dio dove finisce il tutto qual è il limite del tutto potremmo concepire il limite del tutto soltanto se in qualche maniera potessimo vedere il tutto dall'esterno ponendoci noi come altro rispetto al tutto vedere i confini del tutto significherebbe distinguere il tutto dall'ulteriorità dunque non sarebbe più il tutto capite? allora il tutto l'universo Dio ovvero la natura si manifesta secondo determinate modalità e queste modalità sono gli attributi ora a noi uomini è dato evidentemente coglierne due gli attributi tra gli infiniti attributi se Dio è infinito non può non avere infiniti attributi noi esseri umani siamo invece finiti e gli attributi ne cogliamo due la mente e la materia ecco che cosa sono la cogitazione la res cogita e la resextenza di Cartesio quindi non sono esattamente delle resse perché di resse ce n'è una sola ma sono gli attributi dell'unica sostanza ovvero le diverse modalità di manifestazione dell'unico Dio natura l'unica eterna sostanza il cui funzionamento è spiegabile unicamente attraverso cauce efficienti reggi natura termini meccanici si articola poi in una infinità di modi transeunti cioè impermanenti allora ripeto qui termini sono tre sostanza attributi modi la sostanza è una sola la decliniamo al singolare la sostanza è il tutto il Dio natura gli attributi gli attributi sono infiniti tuttavia hanno il dato coglierne due il pensiero e la materia che occupa uno spazio quindi è estesa che cosa sono i modi i modi sono le modalità impermanenti provvisorie attraverso cui quest'unica sostanza si manifesta appare cioè il tutto si manifesta attraverso una serie di fenomeni i modi per l'appunto provvisori transeunti per esempio gli uomini le famiglie degli uomini le famiglie degli animali dei vegetali tutto ciò che esiste ha un'unica causa anzi è manifestazione di un unico organismo vivente il tutto Dio si manifesta provvisoriamente cioè la sua natura di modo è in divenire in fieri un po' come le cellule del nostro corpo le cellule del nostro corpo muoiono e si rigenerano completamente ogni due tre giorni noi continuiamo a essere noi stessi almeno provvisoriamente si fa per dire le cellule del nostro corpo sono cambiate tutte e così nel corpo più grande della natura dell'universo del tutto le cose esistenti cioè i modi le modalità di funzionamento di manifestazione dell'unica sostanza sono assolutamente cangianti provvisorie impermanenti da qui ricaviamo una serie di proposizioni di conclusioni di punti e capite anche il motivo per cui il triste giudio de Amsterdam termine appellativo con cui fu definito Spinoza è un appellativo come dire azzeccato è un personaggio pericoloso il suo è stato detto è un libro forgiato all'inferno perché? perché capovolge rivoluziona tutte le concezioni del tempo vediamo quali sono le conclusioni uno non esiste un Dio personale come nelle religioni del libro ma Dio è la natura e noi ne siamo parte e dunque si tratta di una concezione evidentemente panteista il Dio non è persona non è un'entità che possiamo pregare il vecchio barbuto il babbo natale della tradizione cristiana nel senso cristiana ma per carità nel senso folcloristico superstizioso nel termine Dio non è trascendente ma non ha una sua realtà Dio è la natura e in quanto tale funziona secondo leggi meccaniche e noi siamo parte di questa natura non siamo altro rispetto alla natura Dio è il nostro corpo Dio è la pianta o meglio che differenza c'è tra Dio il nostro corpo Dio la pianta c'è la stessa differenza che si dà tra il tutto è la parte la parte provvisoria il tutto nel suo complesso nulla si crea e nulla si distrugge permane manifestandosi secondo modalità diverse come dicevamo capite che si tratta di una concezione panteistica dunque esattamente l'opposto della visione cristiana panteistica immanentistica cioè Dio è la natura sta dentro la natura coincide con la natura è un altro modo di dire natura seconda proposizione è la sola la natura è libera nel senso che si autodetermina in base a leggi razionalmente spiegabili noi esseri umani siamo determinati causati da una serie di eventi di cui ci sfugge il senso ultimo che cosa significa? che solo la sostanza cioè il tutto cioè la natura è libera di autodeterminarsi le parti dell'unica sostanza sono determinate dalle leggi interne della natura tutti i fenomeni tutti i modi cioè gli accadimenti di questa unica sostanza la natura sono condizionati dalle leggi di natura non possono non obbedire alle leggi di natura così come le nostre le cellule del nostro corpo non possono non obbedire alle leggi della biologia diremmo noi oggi dunque si può parlare di libertà soltanto rispetto al tutto all'unica sostanza tale concezione questa è la terza proposizione nega dunque la provvidenza non c'è alcun disegno divino che favorisca l'uomo in seno alla natura l'uomo non è un regno assestante l'uomo è totalmente nella natura è totalmente naturale non ci sono non c'è una 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 causalità che è ulteriore che altra rispetto alla causalità meccanica meccanicistica dei fatti naturali questo non significa negare Dio in un certo senso sì negare il Dio come entità trascendente ma significa allo stesso tempo divinizzare la natura ovvero azzerare la distanza tra la natura e il divino il divino è la natura la natura è il divino quarta proposizione l'intera natura sia quella esterna sia quella interna cioè quella dell'anima quella del nostro mondo interiore le passioni le emozioni il corpo la mente è fine a se stessa l'uomo non è guidato da alcun finalismo a se stante a parte la natura non è fatta per lui dunque non vi è nessuna centralità dell'uomo rispetto al mondo l'uomo non è il vicerei di Dio come aveva affermato Bakune l'uomo non è una giurisdizione a se stante né la natura è fatta per l'uomo l'uomo è parte della natura l'aver perso questa concezione questa idea che i greci avevano ben presente ma anche i popoli etnologici hanno ben presenti gli indiani d'america gli indios la manzonia per esempio ha prodotto quella frattura quel dualismo che ha portato l'umanità che sta portando l'umanità e il pianeta intero sull'orlo del baratro per così dire all'uomo non domina la natura in quanto entità a se stante staccata dalla natura lui non dispone della natura l'uomo perché l'uomo è natura è parte della natura ecco quinta proposizione la Bibbia non ha alcun valore come rivelazione Spinoza è stato il primo a mostrare il carattere storico della Bibbia un grande filologo un grande studioso lui conosce perfettamente il Talmud ed è in grado di squisire con i rabbi con i maestri ebrei della sua epoca la Bibbia quindi lui propone un nuovo modo di parlare della Bibbia in termini come dire filologici ermeneutici la Bibbia secondo Spinoza ma è secondo anche noi oggi è costruita in base alle emozioni e all'immaginazione del popolo ebraico in determinate epoche storiche e testimonianza dunque di vicende storiche cui l'immaginazione più o meno ispirata ha dato voce i profeti erano persone che esacerbate dalla sconfitta di Israele esprimevano la maledizione verso i nemici e la speranza in una terra promessa uomini carne ed ossa sono loro che hanno scritto la Bibbia producendo una visione indubbiamente grandiosa ma che parla di uomini non è stata dettata da nessun dio trascendente a meno che non vogliamo per l'appunto divinizzare la concezione dell'uomo ci fa vibrare dentro ci fa tremare le mani dall'emozione dalla commozione ci fa vibrare ma è comunque espressione umana scritta da uomini per altri uomini ispirati quanto vi pare dunque ma sempre uomini dunque un'interpretazione di tipo storico filologico una rilettura della Bibbia come opera fondamentale ma opera di tipo storico è chiaro che poi la fede è il singolo fedele è il singolo credente che può in qualche maniera attribuire alla Bibbia vedere nella Bibbia la parola di Dio attribuire alla Bibbia un potere particolare sesta proposizione l'etica in senso lucreziano ricordate il vererum natura di Lucrezio distrugge la radice stessa delle religioni essa si basa sulla paura e sulla speranza non si distingue sostanzialmente dalla superstizione salvo come per dire Freud che la superstizione è una religione privata mentre la religione è una sorta di superstizione pubblica allora l'etica qui con etica si intende l'opera di Spinoza l'etica amore geometrico dimostrata distrugge la radice stessa delle religioni mostra come le religioni si basino sulla paura e sulla speranza su emozioni umane troppo umane del tutto umane è un po' lo stesso lavoro che aveva fatto Machiavelli con la politica quando mostra quali sono le reali fattualità della politica su che cosa si basa il potere e che cos'è la religione dal punto di vista della politica se non instrumentum regni e questo instrumentum regni si basa su fatti naturali cioè le emozioni le passioni umane due in particolare la paura e la speranza e quindi mostrare che l'etica e la politica si basano su fatti umani significa distruggere negare alla radice lo statuto ulteriore a sé stante della religione negare ogni idea di salvezza o di dannazione ricondurre i fatti dell'anima i fatti psichici i fatti morali alle cause naturali settima e ultima proposizione e qui cito Remo Bodei grande filosofo morale recentemente scomparso Spinoza è problematico è scandaloso perché ha detto noi non desideriamo una cosa perché è buona ma una cosa è buona perché noi la desideriamo quindi sono i nostri desideri i desideri di quest'uomo qui inteso come animale desiderante che stabiliscono ciò che è bene non il contrario concludo se ciascun individuo ciascun modo dell'unica sostanza uomo o animale pianta è parte della totalità del tutto naturale e divino e ossessivo e natura la sua essenza consiste nella relazione e nell'interdipendenza la parte non si dà a che attraverso la sua connessione con il tutto siamo parte del tutto dipendiamo da tutto non siamo scollegati non ci possiamo isolare dal tutto continuiamo ad essere sempre e comunque relazione è un'affermazione che richiama da vicino le tesi della fisica quantistica tutto è collegato con tutto tutto vibra tutto è energia declinata questa proposizione declinata in senso sociale e politico questa idea comporta la naturale tendenza dell'uomo alla socievolezza l'uomo è un animale sociale come aveva detto Aristotele e alla costruzione di organismi politici più o meno complessi le buone relazioni coronate da successo quelle umanamente più utili ovvero basate su una reciprocità intelligente simpaterica simpatica sono la principale causa dell'accrescimento della nostra potenza perfezione individuale esse producono letizia benessere senso di sicurezza che cosa significa in parole più povere significa che la letizia l'amore cioè ciò che ci fa sentire essere più potenti quindi l'etica ha alla fine un naturale sbocco nella politica siamo più potenti ci sentiamo più potenti nella misura in cui scopriamo approfittiamo viviamo fino in fondo il collegamento con l'altro e quando parliamo di collegamento con l'altro in senso umano parliamo di politica insieme in comunità siamo più forti quando invece ci vogliamo immunizzare della comunità perdiamo forza quindi sentiamo tristezza è quello che proviamo in qualche maniera proprio in questi giorni in cui la 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 pestilenza del del coronavirus ci mette in una situazione che è esattamente l'opposto della comunità cioè quella dell'immunitas l'immunità ognuno per conto suo ad accrescere ad acuire una sensazione di sensazione dolorosa che già l'individualismo che caratterizza la nostra società procura produce in ciascuno di noi procura in ciascuno di noi ecco finisce qui questa puntata riprenderemo a leggere Spinoza la seconda proposizione ricordatevi che ho letto e commentato soltanto la prima proposizione della parte dell'appendicia della parte quarta dell'etica alla prossima volta continuiamo con le nostre lezioni spinoziane riprendiamo la lettura da dove l'avevamo lasciata la scorsa volta bisogna battere il ferro finché è caldo stiamo leggendo e commentando l'appendice alla quarta parte dell'etica spinoziana appendice che è proprio dedicata alla gestione delle passioni al rapporto tra passioni e ragioni che è il tema che stiamo esplorando per così dire leggo e commento i desideri i desideri che derivano dalla nostra natura non alla potenza umana ma a quelle di cose che sono fuori di noi e perciò quelle si chiamano giustamente azioni le prime queste le seconde si chiamano invece passioni quelle infatti rivelano sempre la nostra potenza le azioni mentre queste rivelano al contrario la nostra impotenza e la nostra conoscenza frammentaria il passo è complesso ma insomma cerco di rendervelo in parole un po' più semplice diciamo che qui c'è veramente l'essenza il cuore dell'etica spinoziana che per alcuni versi è simile all'etica stoica in particolare a quella di Epiteto che abbiamo studiato l'anno scorso in maniera magari non troppo approfondita ma vale la pena ritornarci un attimo sopra i desideri ovvero cubititatis sono come dire il tema fondamentale della visione spinoziana i desideri non si distinguono in desideri innaturali e in desideri naturali in desideri buoni e in desideri cattivi in desideri legittimi dal punto di vista religioso e in desideri illegittimi o malvagi ecco tutti i desideri in quanto naturali sono di per sé buoni e l'uomo è un animale desiderante buoni intesi in senso generale in senso metafisico cioè tutti i fenomeni che si producono sono secondo natura e non possono non prodursi secondo natura ma allora se se questo è il punto di vista del tutto del divino in che cosa consiste l'errore in che cosa consiste il male e dunque in che cosa consiste la libertà di scelta perché badate bene se tutto quello che avviene è assolutamente buono assolutamente positivo e dunque effettivamente non possiamo scegliere tra un bene e un male e non siamo liberi di scelta tra un bene e un male è anche poco sensato parlare di etica non ha senso parlare di etica dal punto di vista del singolo individuo quindi dal punto di vista della natura nel suo complesso tutti i desideri sono di per sé naturali adeguati per così dire dal punto di vista del singolo individuo che è il punto di vista che noi dobbiamo assumere che dobbiamo sposare esistono effettivamente dei desideri comprensibili ovvero basati sulla mente in quanto la mente concepisce di questi desideri idee adeguate quindi detto in altri termini ci sono dei desideri di cui noi siamo perfettamente consapevoli e che per così dire sposiamo fino in fondo so che quel desiderio è un desiderio legittimo lo sento mio e dunque do l'assenso a questo desiderio anche perché si tratta di un desiderio che ha come baricentro la mia anima la mia interiorità dunque la realizzazione o meno di quel desiderio dipende dalla mia condotta morale ci sono invece dei desideri altri desideri che si basano su una concezione inadeguata vedete non è malvagia o buona è adeguata o non adeguata quindi su una visione inadeguata in quanto concepisce tali desideri come fondati sul singolo individuo mentre in realtà la soddisfazione o meno di questi desideri dipende da fattori esterni ebbene per dirla con epiteto che effettivamente da questo punto di vista ci semplifica molto la questione esistono nella natura umana cose che dipendono da noi il cui soddisfacimento dipende da noi sulle quali possiamo contare e pertanto su queste cose qui siamo perfettamente liberi e cose che invece non dipendono da noi se vi ricordate epiteto nel manuale in Chiridion distingue le cose che dipendono da noi ovvero gli atti mentali i giudizi le interpretazioni che diamo della realtà esterna delle azioni degli altri uomini e il modo chiaro e distinto con cui avvertiamo le nostre spinte ottative le nostre spinte desiderative ma poi ci comportiamo in maniera più o meno adeguata cioè da noi dipende l'interpretazione degli stimoli ci giungono alla mente cosciente una serie di stimoli di pulsioni direbbe Freud pulsioni più o meno istintuali emozioni più o meno grezze queste emozioni noi le sospendiamo le guardiamo le vediamo in qualche maniera e da noi dipende la comprensione adeguata di queste emozioni e poi un'azione adeguata rispetto alle stesse emozioni faccio l'esempio dell'ira se sento montarmi dentro l'ira l'ira in sé per sé non è buona né cattiva va da sé è un fatto naturale in determinate situazioni abbiamo bisogno dell'ira della rabbia dell'aggressività che è un istinto assolutamente umano anzi è un istinto animale che condividiamo con il resto delle forme viventi quindi ha una sua ragione di essere positiva ne va della nostra sopravvivenza e dunque l'ira va forse l'aggressività va forse condannata va forse interpretata come uno strumento del demonio beh assolutamente no però siccome siamo animali razionali dobbiamo e possiamo maturare dell'aggressività dell'ira quando essa si manifesta un'idea assolutamente adeguata e quindi che cos'è l'ira in senso patologico o l'ira che poi diventa aggressività pura violenza gratuita che produce ansia che produce angoscia quando viene repressa beh è un'aggressività inadeguata rispetto a quella che è effettivamente la realtà lo stato delle cose dunque se io mi faccio prendere dall'ira e cerco di sfidare un mio interlocutore che effettivamente non è in grado di nuocermi o non è in grado di nuocermi in quel momento e l'affronto per così dire in campo aperto no avete presente situazioni un po' che capitano quelle che capitano in mezzo al traffico quindi una persona che è già molto stressata per conto suo ha una dose di adrenalina decisamente alta che cosa fa beh di fronte a un evento fortuito prende e sfoga la sua aggressività la propria ira contro un personaggio che magari in quel momento potrebbe anche avere torto potrebbe anche avergli sollecitato questa esplosione di ira ma di fatto riceve una dose di aggressività che è del tutto spropositata perché quell'ira era montata in fasi precedenti e dipendeva da altri fattori il problema sta nel fatto che il soggetto non è in grado di tenerla a bata non è in grado di guardare la verità negli occhi di interpretarla e di dare a questa ira il giusto valore allora ripeto mi sono un po' dilungato con questo esempio spero che sia chiaro fatto l'esempio dell'ira potremmo fare anche l'esempio della paura le paure sono assolutamente legittime purché non diventino anzi angosce che sono paure inadeguate sproporzionate magari rispetto all'oggetto effettivo della paura allora che cosa significa nel primo caso ci sono dei desideri questa cupidità che è in qualche maniera accettata dalla mente ed è raffigurata attraverso idee adeguate cioè sono dei desideri di cui siamo completamente padroni che dipendono pienamente da noi e dunque questi desideri che dipendono veramente da noi e che vengono vissuti in maniera chiara e distinta adeguata producono delle azioni non delle reazioni scomposte ma delle azioni adeguate motivate perché sono stati appunto compresi sviluppati fatti nostri per così dire invece quei desideri di cui abbiamo una conoscenza inadeguata spropositata per così dire producono delle passioni cioè ci produciamo in una serie di azioni che sono sproporzionate inadeguate rispetto all'origine alla causa e all'effetto al rapporto tra causa e effetto cioè io ho un'ira che mi è montata dentro per cause di vario genere magari che mi porto appresso da un po' di tempo e la sfogo in maniera inadeguata contro il soggetto che in quel momento mi capita sotto le mani io in quel momento sono vittima di una passione non sto agendo a ragion veduta ma sto per così dire reagendo passivamente a uno stimolo che non sono stato in grado di controllare dunque l'etica e la libertà corre sul filo della distinzione tra consapevolezza della propria natura e di quello che si vive delle proprie emozioni quindi emozioni che vengono tradotte in intelligenza delle stesse e invece quelle emozioni che si subiscono massivamente l'idea adeguata o inadeguata è l'idea che praticamente ci fa distinguere ciò che effettivamente è in nostro potere ciò che effettivamente dipende da noi per riportare la celebre distinzione del manuale di Epiteto è ciò che invece non dipende da noi ovvero che è spostato verso l'esterno dunque per esempio prendersela su fatti addolorarsi per elementi fatti elementi fattuali che non dipendono da noi è che noi non possiamo minimamente controllare ad esempio banale quello che gli altri pensano di noi ma quello che gli altri pensano di noi non è il nostro potere gestirlo quindi che cosa significa adeguata comprensione di un'emozione è magari un'emozione negativa che sorge spontaneamente a fronte del sentire un commento negativo nei nostri riguardi beh capita a tutti naturalmente a nessuno di noi piace che qualcuno parli male del sottoscritto che parli male di persona soprattutto in genere parlerà male le spalle o in qualche social di nascosto di nascosto attraverso i social come sapete si sa tutto di tutti allora a nessuno fa piacere indubbiamente ma qual è il discrimine? nel rendersi conto tra un'emozione spiacevole all'inizio che può in qualche maniera essere elaborata e quindi perdere la sua carica nociva il fatto che ci disturbi il fatto che metta radici nel nostro animo e il fatto invece che adeguatamente venga compresa per quella che è venga analizzata e venga poi come dire filtrata smaltita per così dire bene sta proprio in questo punto comprendere che quel tipo di emozione ci è sollecitata da una sfera della realtà che non è il nostro potere che è la mente e il giudizio dell'altro l'altrui giudizio l'altrui giudizio non lo controlliamo noi possiamo controllare al massimo le nostre azioni i nostri sentimenti le nostre buone o cattive intenzioni di questo entro certi limiti siamo padroni quando le viviamo consapevolmente ma non siamo minimamente padroni di quello che pensano gli altri di noi quindi per Epiteto e Spinoza indubbiamente sta riprendendo un pensiero che è tipicamente stoico beh evidentemente la capacità di distinguere tra ciò che dipende da noi e ciò che non dipende da noi è la capacità fondamentale la capacità critica crino vuol dire appunto in greco io giudico io taglio io separo io distingo le passioni dunque ci rivelano la nostra impotenza perché le subiamo mentre le azioni che derivano da idee adeguate delle emozioni si traducono in atti potenti ovvero potenti che possono cambiare le cose ecco la differenza tra agire e patire chi agisce è potente chi subisce evidentemente manifesta tutta la sua impotenza andiamo avanti e dunque ecco la conclusione ma questa l'avevamo già anticipata che in ultima istanza non si tratta di reprimere mortificare controllare i propri desideri ma semplicemente di riconoscere l'adeguatezza degli stessi rispetto al contesto di cui siamo parte integrante proprio dire lungo questa via è realizzarsi in quanto essere umano cioè animale razionale nel senso di animale comprensivo comprensivo lo scrivo tra virgolette comprensivo vuol dire che è in grado di cogliere la visione d'insieme compreendere abbracciare insieme potenziandosi cioè diventando più potente nella misura in cui è in grado lo stesso animale di trascendere di andare oltre il proprio egocentrismo andare oltre il proprio egocentrismo vuol dire avere la visione d'insieme quindi vedersi collocato nel contesto più ampio della natura della relazione eccetera eccetera allora se noi ci poniamo non dal punto di vista egocentrato quindi teniamo conto solo del nostro relativo punto di vista ma ci poniamo dal punto di vista della comunità prima della famiglia poi della comunità allargata e poi dell'intero mondo in qualche maniera siamo diventiamo necessariamente più liberi perché si allarga la nostra comprensione delle cose nonché la distinzione netta appunto tra ciò che è limitato alla nostra sfera d'azione e ciò che invece sostanzialmente dobbiamo lasciare agli altri ciò che possiamo controllare direttamente rispetto a ciò che invece non possiamo controllare direttamente leggo la terza proposizione le nostre azioni cioè quei desideri che si definiscono in base alla potenza ossia alla ragione dell'uomo sono sempre buoni mentre gli altri possono essere tanto buoni quanto cattivi l'agire conformemente alla propria natura è in armonia con la rete di relazioni di cui facciamo parte a cominciare dalle relazioni sociali e politiche no abbiamo già detto come Spinoza l'etica e la politica siano strettamente connesse definisce ciò che è buono rispetto a ciò che non è buono io metto buono tra virgolette perché ripeto dal punto di vista del tutto la distinzione tra buono e cattivo ha poco senso cioè tutto ciò che è naturale è di per sé buono la distinzione tra buono e cattivo riguarda esclusivamente la sfera la sfera etica dell'individuo cioè la sfera in cui lui può lui o lei può essere più o meno consapevole dei propri desideri e più o meno partecipe in maniera attiva e non puramente reattiva a quello che gli avviene intorno ecco se io ho una conoscenza adeguata di ciò che mi accade intorno e di quella che è la mia sfera d'azione concreta allora sono potente posso effettivamente cambiare le cose posso fare la mia parte se penso di di poter non valuto bene le mie forze penso di poter cambiare di poter sollevare con la forza dei miei bicipiti poter sollevare un'automobile per salvare una persona che è intrappolata nella stessa automobile evidentemente finisco uno con non salvare la persona due con rompermi la schiena quindi devo sempre immaginare pensare se voglio agire producendo degli effetti concreti ciò che è il mio potere fare in quel contesto questo è buono e il resto è cattivo cattivo nel senso di inutile di inadeguato di insensato o di poco significativo rispetto alla situazione effettiva in cui io mi trovo vedete che in Spinoza così come anche nella filosofia antica la nozione di buono di utile di adeguato di naturale tendono sostanzialmente a coincidere ciò che è naturale è utile ciò che è utile è anche buono supremamente buono dunque non si agisce a fin di bene a prescindere da o in contrapposizione ai propri desideri oppulsioni come vorrebbero le morali eteronome quelle fondate sulla Bibbia non ha senso il dire io faccio il bene perché questo è quello che mi comanda la legge mosaica dunque reprimere il mio desiderio nei confronti della dell'altrui donna non desiderare la donna ad altri quindi io siccome sento che da qualche parte mi sta venendo la voglia di un'altra donna dunque devo intervenire intervengo reprimendo questo desiderio questa pulsione perché è cattivo è negativo o Dio contro Dio e gli uomini contro non è questo il punto il desiderio adeguato alla potenza alla ragione umana è di per sé buono d'altro canto i desideri la cui realizzazione è affidata alla casualità dei fattori esterni per esempio l'altrui volontà o che peggio ancora si rivelano irrazionali cioè contrari alle leggi di natura possono essere tanto buoni quanto cattivi nel primo caso oppure decisamente cattivi nel secondo caso allora io vengo per così dire investito da questa pulsione il problema non è che la pulsione se per sé sia cattiva e io sia buono io mi debba pentire dei miei peccati semplicemente sarò buono o cattivo cioè mi comporterò in maniera adeguata o inadeguata a seconda di come gestirò questa pulsione e di come mi comporterò nei confronti degli altri interlocutori ma tenendo conto della situazione effettiva in cui io mi trovo quindi non è che mi infrusto per la pulsione in sé per sé che è assolutamente naturale e allora l'altra distinzione che diciamo prima è quella del sapere ciò che è conforme alla legge di natura rispetto a ciò che invece non è affatto conforme alla legge di natura per cui se io decido che voglio ringiovanire perché la vecchiaia è cattiva e la giovinezza è cosa buona evidentemente mi condanno ad una dose di dolore in più aggiuntivo già la vecchiaia di per sé rega con sé una serie di fastidi di disturbi e in questa maniera mi faccio carico il disturbo ulteriore che è un disturbo di tipo psichico morale per così dire perché cerco di cambiare ciò che non è il mio potere cambiare quindi produco una visione inadeguata e questa visione inadeguata mi porta a subire uno stato d'animo passionale che mi rende come dire schiavo vittima e non soggetto attivo la mancata comprensione e riarmonizzazione rispetto alle nostre effettive potenzialità non può che produrre una diminuzione di potenza o di perfezione che quindi si esprime diciamo in maniera molto meccanica con un sentimento di tristezza o di odio o di rancore o di paura o di disperazione è interessante come sostanzialmente i due sentimenti di cui parla le due passioni di cui parla Spinoza in termini politici ovvero il timore e la speranza sono ambedue negativi quando vengono vissuti e percepiti in maniera inadeguata perché il timore è ciò su cui falleva il potere per tenermi imbrigliato da una parte è uno strumento politico l'inferno piuttosto che il paradiso la speranza è ciò che invece mi sprona a cambiare in una determinata direzione ma sia il timore che la speranza si rivelano nella maggior parte dei casi assolutamente inadeguati non c'è nessun inferno evidentemente e non c'è nessun paradiso continuo con la lettura di Spinoza siamo arrivati alla quarta proposizione nella vita è perciò utile prima di tutto condurre a perfezione per quanto è possibile l'intelletto ossia la ragione e in ciò consiste la più alta felicità o beatitudine dell'uomo poiché la beatitudine non è altro che l'appagamento dell'animo originato dalla conoscenza intuitiva di Dio ora condurre a perfezione l'intelletto non è altro che avere intelligenza di Dio e degli attributi e azioni di Dio perciò il fine ultimo dell'uomo guidato da ragione ossia il desiderio supremo con il quale si studia di controllare tutti gli altri desideri è quello da cui è portato a concepire adeguatamente se stesso e tutte le cose che possono essere colte dalla sua intelligenza quindi obiettivo fondamentale dell'etica è portare a perfezione l'intelletto ovvero la ragione ed è in questo che consiste la più alta felicità o beatitudine che l'uomo può effettivamente raggiungere quindi è un lavoro che si fa su se stessi la beatitudine in effetti non è altro che l'appagamento la soddisfazione della mia anima della mia interiorità che si ha quando si riesce ad avere una conoscenza immediata intuitiva di Dio che vuol dire conoscenza immediata intuitiva di Dio vuol dire che attraverso l'intuizione che è quella noesis platonica il livello di fusione più alto la conoscenza intuitiva il penetrare per così dire l'essenza di Dio il mettersi dal punto di vista di Dio e quindi la forma più alta di conoscenza al di sotto di questa c'è la conoscenza direbbe Platone quella la dianoia c'è la conoscenza dialogica quella basata sul calcolo razionale quella geometrico matematica o cartesiana per così dire poi c'è l'amor dei intellettualis che è l'ultimo gradino quello più alto della conoscenza umana che consiste nel mettersi dal punto di vista di Dio cioè raggiungere l'appagamento dell'animo che è proprio della conoscenza intuitiva di Dio ovvero la capacità rara da conseguire difficile difficilissima da conseguire ma del resto queste sono le parole con cui termina l'etica del resto le cose più belle sono anche le cose più preziose e più le cose più belle più preziose sono quelle più difficili da realizzare indubbiamente e la felicità e il punto d'arrivo di una vita è sostanzialmente la cosa più 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 bella perché più difficile avete esperienza di qualcosa che sia banale semplice da realizzare che sia anche che vi dia anche il massimo della soddisfazione evidentemente no le cose ce le dobbiamo per così dire sudare ecco allora mettersi al punto di vista di Dio vuol dire considerare a colpo d'occhio le nostre emozioni dal punto di vista del tutto quindi sentirci pienamente in armonia con la realtà con quello che accade dentro di noi e fuori di noi è una visione che è una visione grandiosa che Spinoza esprime in termini razionali come filosofo occidentale come razionalista secientesco ma che troviamo in tutte le tradizioni filosofiche e spirituali io ho in mente il buddismo zen che poi il buddismo zen rappresentava nell'esposizione che facevo a proposito di ragioni e passioni rappresentava per così dire l'altro corno l'altro corno dialettico in realtà riprende la visione di Spinoza però formulata ditta con parole diverse e il buddismo zen fa proprio riferimento allo stare in sé tenendo conto vivendo senza stacchi senza conflitti in piena armonia con il resto del mondo con la realtà tutta ecco il fine ultimo dunque dell'uomo vi dato la ragione quindi il desiderio supremo è quello da cui è portato a concepire adeguatamente se stesso e tutte le cose che possono essere colte dalla sua intelligenza e qui mi viene in mente un esempio di tipo fotografico per così dire per capire la collocazione di un oggetto singolare un oggetto individuale all'interno di un contesto più ampio beh debbo ricorrere ad uno debbo diminuire lo zoom se io ho una macchina fotografica e ho zoomato l'immagine quindi vedo il volto di quella persona con tutti i dettagli poi lo tiro via un pochino allargo il campo vedo la persona inserita in un contesto più ampio poi lo allargo ancora di più lo allargo fino a assumere un punto di vista che gli antichi chiamano sguardo dall'alto quello che mi consente di vedere non il singolo particolare in sé staccato ma il particolare inserito nel contesto più ampio ecco la capacità di cogliere l'essenza delle cose quindi di avere una visione adeguata del mondo e dei miei desideri è proprio questa capacità di elevarsi di vedere le cose dal punto di vista del tutto che è il punto di vista della natura quindi quello dello scienziato dello scienziato naturale che esamina le cause meccanicistiche del mondo ed è in ultima istanza se lo vogliamo declinare secondo la terza modalità di conoscenza di cui parla Spinoza è il punto di vista mistico intuitivo dell'uomo di religione di quello che ha una prospettiva spirituale il primo gradino invece della scala della conoscenza che non ho citato sin qui è quello della conoscenza sensibile quella a cui diciamo siamo soggetti tutti noi quella che spesso però ci fa ci inganna ci fa prendere fischi per fiaschi perché la conoscenza sensibile per Spinoza così come per Platone è sostanzialmente una conoscenza difettosa quinta proposizione non c'è vita razionale senza intelligenza e le cose sono buone solo nella misura in cui aiutano l'uomo a fruire della vita della mente che è definita dall'intelligenza chiamiamo invece cattive solo quelle cose che impediscono all'uomo di perfezionare la sua ragione di godere della vita razionale proposizione decisamente chiara anche qui in linea con la filosofia antica viene immediatamente in mente l'intellettualismo etico l'intellettualismo morale di socratica memoria ovvero che cos'è buono beh buono è ciò che mi rende consapevole buono è conoscere essere intelligenti sostanzialmente quindi tutto ciò che aiuta il singolo a fruire della vita della mente è buono tutto ciò che invece mi è d'ostacolo che mi impedisce di perfezionare la mia ragione la mia conoscenza cominciare dal sapere dal non sapere di non sapere o dal fatto di pretendere di sapere tutti di sapere tutto e quindi di scambiare quelle che sono le nostre impressioni sensibili quelli che sono i nostri desideri scambiati per la realtà in sé ecco per così dire staccandoci dalla realtà perché poi l'adeguatezza o la non adeguatezza di un desiderio sta nella sua conformità o meno allo stato effettivo delle cose quindi tutto ciò che mi fa progredire lungo il cammino dell'intelligenza è definibile buono tutto ciò che invece è di ostacolo lo definiamo negativo lo definiamo cattivo per molestandoti in assoluto ripeto non c'è nulla è assolutamente buono assolutamente cattivo e quindi capite da qui no getto immediatamente un ponte alla politica alla concezione politica di Spinoza che cos'è politicamente corretto politicamente buono che cos'è politicamente negativo ovvero che contribuisce al progresso conoscitivo mentale nazionale non più non soltanto del singolo individuo ma della comunità tutta o dell'individuo in quanto inserito all'interno di una comunità beh va da sé il progresso dell'intelligenza quindi tutti quegli strumenti che mi aiutano in qualche maniera a progredire a vivere in maniera più consapevole e dunque non ci sorprende affatto che Spinoza sia uno dei tanti paladini e martiri in un certo senso del libero pensiero della libertà di pensiero quella libertà di pensiero che troviamo incisa marchiata a lettere di fuoco in tutte le costituzioni moderne in tutte le costituzioni occidentali quella libertà di pensiero che dobbiamo difendere con le unghie e con i denti e che spesso è messa come dire in crisi da da un uso smodato non adeguato oggi diremmo dei media no all'epoca i media erano decisamente più semplici meno invasivi e si trattava di battersi per poterli effettivamente usare del libro il pamphlet il giornale in questo senso Spinoza la sua battaglia di civiltà nell'Olanda del XVII secolo anticipa delle tematiche che poi troveremo pienamente di spiegate nel secolo successivo il secolo dell'illuminismo quindi la buona politica si basa su il principio che fa sì che la società intera possa godere al massimo grado della libertà di conoscere di sviluppare la propria intelligenza uno stato invece cattivo negativo tirannico è quello che impone delle regole che chiudono le persone in loro stesse che gli impediscono di fruire adeguatamente della conoscenza quindi possiamo dire che la scuola da questo punto di vista è un'istituzione a presidio solo della cultura e dell'intelligenza ma anche proprio della vita morale e del tasso di felicità potenziale del singolo individuo anche se poi la maggior parte degli studenti si è interpellati su questo argomento rispondono negativamente no la scuola è la fonte di tutti di tutti i problemi di tutte le depressioni o le insoddisfazioni ma in realtà si tratta ecco di sistemare un pochino dal proprio punto di vista quindi se il massimo desiderio dell'umano consiste nella conoscenza ossia nello sviluppo e nella fruizione della vita psichica allora la nozione di buono e di cattivo dovranno essere misurate soppesate in base alla loro utilità adeguatezza funzionalità ai fini conoscerevi la conoscenza libera l'ignoranza ostacola nel quadro panteistico monistico di Spinoza panteistico perché tutto è Dio monistico perché il principio è uno solo monos la libertà e realizzazione della necessità quindi i due termini libertà e necessità sostanzialmente coincidono si è liberi nella misura in cui si sposa la necessità si dà il proprio assenso alla necessità fata come dice Seneca nella lettera a Lucinio fata volente sdugunt nolente straunt si tratta di volere quello che vogliono i fati cioè il mettersi dal punto di vista del tutto l'essere realistici per così dire un desiderio realisticamente inteso realisticamente vissuto è libero un desiderio irrealisticamente inteso irrealisticamente vissuto è necessitato è costretto è un desiderio da schiavo ti opprime ti fa sentire male quindi libertà che cos'è? la libertà è la realizzazione della mia natura individuale in seno al Dio natura in armonia con il tutto ovvero è il sottolineare la mia natura relazionale il mio non essere separato dal tutto l'impossibilità di dire mio perché non esiste il mio prima del noi esiste prima il noi esiste prima la relazione piuttosto che il punto di vista individuale ecco mi piace rappresentare un'immagine vivida purtroppo adesso non ho la lavagna sotto mano ma insomma noi siamo abituati a pensare al singolo individuo alla realtà composta da singoli individui che poi stabiliscono in maniera più o meno faticosa a volte non ci riescono affatto delle relazioni tra di loro allora immaginatevi questo scenario disegno sulla lavagna una serie di puntini di pallini con il gesso ognuno di questi pallini è un singolo individuo e poi e poi ci sono in un secondo momento e quindi in subordine agli individui ci sono le relazioni allora prendo e collego questi pallini che ho disegnato la lavagna con delle righe ecco a fare a formare delle figure un triangolo un quadrato e così via questo è il punto di vista di più il modo normale per così dire di ragionare in realtà abbiamo un altro tipo di situazione che poi ci viene confermata anche dalle scienze della scienza contemporanea pensate alla fisica dei quanti ovvero ad esistere prima avvenire prima sono le linee e gli individui la linea è la relazione e gli individui altro non sono che i punti di congiunzione di intersezione casuali di queste linee allora a questo punto io torniamo alla lavagna di prima non ho disegnato dei singoli punti che in un secondo momento collego con delle linee ma mi sono messo a tracciare sulla lavagna una serie di linee linee che a un certo punto si intersegano e dopo che le linee sono intersecate in un secondo momento vado lì e con il gessetto calco sul punto di intersezione ecco l'individuo ma prima dell'individuo c'è la relazione quindi prima che ci insegna anche Freud prima che la psicologia moderna prima che l'individuo sviluppi la nozione di io c'è l'incontro con l'altro prima c'è la relazione la relazione è il binomio madre figlio madre trattino figlio è un tutt'uno ed è da questo binomio da questa relazione originaria che in un secondo momento si sviluppa l'idea di io io figlio in quanto distinto dall'altro l'altro qui è la madre in questa specifica relazione ma è una distinzione a posteriori a priori c'è la relazione lo stesso vale per Spinoza sostanzialmente quindi è comprendere che la realizzazione della mia natura individuale non può prescindere dal contesto generale che è quello in ultima istanza del dio trattino natura Deus sive natura il tutto in quanto tale è autonomo ossia si autodetermina le leggi del suo funzionamento mentre la parte il singolo il modo ciascuno di noi è un modo è necessitato rispetto al tutto che vuol dire autonomo era una delle domande che mi erano state poste in effetti perché libertà e necessità in ultima istanza in Spinoza coincidono dipende anche qui dal punto di vista se adottiamo il punto di vista del tutto allora effettivamente quella che noi chiamiamo provvidenza o volontà di Dio sono è la legge stessa della natura sono le stesse leggi della natura la natura è autonoma cioè autodetermina autoproduce le proprie leggi allora lì c'è la libertà ed è il punto di vista del tutto dove c'è la necessità beh la necessità c'è quando noi spostiamo l'attenzione sul punto di vista della singola parte del singolo individuo il quale perdendo di vista il tutto si sente per così dire necessitato si sente costretto a fare o a fare o non fare una determinata cosa dunque libertà e provvidenza coincidono e noi siamo liberi nella misura in cui sposiamo l'ottica del tutto l'uomo in particolare questo vale per tutte le cose che esistono naturalmente anche per la pietra che non può fare a meno di cadere la pietra cade è attratta dalla terra noi la chiamiamo forza di gravità è libera può non cadere no certo che non può non cadere deve cadere per forza deve cadere necessità da cadere ma in quanto parte del tutto la pietra vuole cadere non può non cadere perché vuole cadere ma perché non è la pietra il singolo a decidere è il tutto all'interno del quale la pietra rientra l'uomo a differenza della pietra ha il privilegio di poter aspirare ad avvicinarsi al punto di vista di Dio cioè mentre la pietra non ha coscienza di essere evidentemente o l'animale l'animale ha una coscienza una coscienza assolutamente parziale autocentrata istintiva ecco né pietra né vegetale né animale possono provare ad elevarsi al punto di vista di Dio cioè conoscere la legge il funzionamento della natura l'uomo animale razionale ha questa possibilità è una possibilità naturalmente che noi dobbiamo poter affinare ecco perché siamo veramente liberi nella misura in cui conosciamo e progrediamo lungo la strada il cammino della conoscenza il punto di vista di Dio è il punto di vista dell'uomo di scienza in senso laico in senso moderno naturalmente così facendo accettando il proprio essere necessitato in quanto frammento infinitesimale del sistema natura noi guadagniamo la nostra libertà ciascuno di noi guadagna la propria libertà in effetti l'esperienza ci insegna che ai livelli più alti della conoscenza nazionale accedono poche persone pochissime naturalmente l'intuizione finale diciamo prima è quella amor dei intellectualis che è appannaggio di una minoranza del tutto ristretta ci viene in mente indubbiamente anche qui ci corre l'obbligo di citare la metafora della caverna di Platone alla fine se vi ricordate anche lì c'è un cammino conoscitivo il cammino conoscitivo ha a che fare con libertà e schiavitù alla fine quelli che sono vittima le persone che sono vittima del mondo sensibile quindi che si ritrovano indischiati in un punto di vista parziale e quindi hanno a che fare con un'emotiva un'emotività che li incatenano sono gli schiavi i servi che sono costretti condannati a giacere in fondo alla caverna con il volto fisso sulla parete stretti da catene che li stringono da ogni parte li costringono a tenere la testa ben piantata verso il fondo della catena della caverna scusate e invece poi c'è il miracolato ma è una persona che riesce se vi ricordate a liberarsi a guadagnare l'uscita della caverna passa attraverso una serie di prove perché il cammino della conoscenza è un cammino pieno di ostacoli pieno di difficoltà e alla fine giunge alla conoscenza della realtà in sé della vera essenza delle cose le idee platoniche in questo caso in ultima istanza l'idea del bene e poi però sente il bisogno di rientrare di tornare dentro e di provare a risvegliare a liberare gli schiavi ma insomma lui è libero e la libertà l'ha guadagnata grazie al cammino di conoscenza che ha fatto tanto più conosce la vera realtà delle cose tanto più è libero e alla fine è tanto libero che può decidere di tornare indietro per provare a liberare gli schiavi e questa è la vera missione del filosofo e poi è il compito cui Spinoza non solo lui ma Spinoza in particolare ha dedicato tutta la sua vita è la vita dello studioso la vita dello studioso consiste non solo nel liberare se stessi quindi nel progredire lungo la scala della conoscenza come singoli individui ma anche nel diventare nel tentare di risvegliare gli altri quindi diventare un esempio martire per così dire martire in greco vuol dire martire si vuol dire appunto testimone testimone della verità della giusta conoscenza Spinoza infatti ci ricorda questa è la famosa chiusa dell'etica a cui accennavo prima ve la leggo perché effettivamente vale la pena ricordarla ora se la via che ho mostrato condurre a questa condizione di letizia inalterabile la perfetta gioia letizia inalterabile sembra difficilissima essa però può essere percorsa questa è la buona novella questo è il Vangelo Spinoziano ce la si può fare può essere percorsa per quanto possa apparire difficile può essere percorsa certo deve essere difficile ciò che si vede conseguito così di rado se la salvezza fosse a portata di mano e potesse essere trovata senza una grande fatica è mai possibile che quasi tutti gli uomini rinunciassero a cercarla il fatto è che tutte le cose eccellenti sono tanto difficili quanto rare è la loro difficoltà è la loro rarità che le rende eccellenti e per questo vale la pena spendere la propria vita in funzione della conoscenza per oggi ci fermiamo qui la prossima volta riprendiamo dalla sesta proposizione e andremo un po' più veloci in realtà così terminiamo questa parte per poi andare avanti riprendiamo il nostro ciclo di lezioni spinoziane siamo arrivati alla terza lezione stiamo leggendo e commentando l'appendice alla quarta parte dell'etica spinoziana siamo arrivati alla proposizione numero 6 che mi è presto a leggere ma poiché tutte le cose di cui l'uomo è causa efficiente sono necessariamente buone nulla di male può venire all'uomo se non da cause esterne ovvero in quanto è parte della natura intera alle cui leggi la natura umana è costretta a operire ed ai cui modi infiniti si può quasi adeguare che cosa si intende qui per cause esterne le cause esterne sostanzialmente sono ciò da cui può eventualmente provenire qualcosa di male perché finché l'uomo è l'uomo qui è da intendersi il singolo individuo cioè il singolo modo di essere rispetto all'unica sostanza Deus Sive Natura dunque al singolo uomo possono venire cose negative può venire qualcosa di male soltanto da cause esterne perché evidentemente tutto ciò che è prodotto direttamente dal singolo individuo ovvero tutto ciò di cui il singolo individuo è causa efficiente non può che essere necessariamente buono quindi tutti gli impulsi tutti i desideri che provengono dal nostro dalla nostra biologia dal nostro interno per così dire nostro apparato animale e nonché umano intellettuale sono necessariamente positivi evidentemente la negatività può derivare dagli ostacoli che evidentemente incontriamo nel soddisfacimento dei nostri desideri le cupidità di cui abbiamo già detto oppure nell'intervento di altri modi a noi esterni quindi nell'intervento di altri esseri umani o animali o elementi naturali i quali in qualche maniera possono nuocerci dunque nulla di male viene all'uomo dall'uomo seguendo la sua natura qualcosa di male evidentemente può provenire dalle cause esterne qui con male e bene intendiamo nozioni che riguardano il singolo individuo perché abbiamo già detto che dal punto di vista del tutto dal punto di vista della natura non esiste male o bene esiste soltanto il bene ovvero tutti i fenomeni naturali dal punto di vista della natura che è divina che è Dio sono in qualche maniera positivi cioè tutto ciò che è conforme alle leggi di natura e non può non essere conforme alle leggi di natura è anche conforme al volere di Dio e dunque in quanto tale è buono ovvero possiamo togliere la parola buono possiamo sostituirla con naturale tutto ciò che è naturale che obbedisce alle leggi di natura è di per sé buono questo se assumiamo il punto di vista generale se assumiamo il punto di vista relativo del singolo modo cioè del singolo individuo evidentemente possiamo distinguere tra un bene e un male in termini relativi il bene corrisponde nel soddisfacimento pieno dei propri desideri il male corrisponde nella diminuzione di potenza derivante dal mancato soddisfacimento dei nostri desideri quello che provoca appunto la tristezza tristizia nel linguaggio latino che usa Spinoza dunque quali sono le cause esterne con cui gli esseri umani entrano in contatto e che evidentemente possono provocare questo diminuzio della potenza vitale di ogni singolo individuo ecco potremmo parlare in generale di ambiente sociale se ci riferiamo agli altri uomini o di ambiente naturale forse quello che ci interessa più da vicino più immediatamente è l'ambiente sociale che significa che nella nostra relativa individuale condizione effettivamente cause esterne un altro essere umano può provocarci un danno e dunque può arregarci del male tra virgolette sempre inteso in senso relativo facciamo un esempio banale sotto gli occhi di tutti chi oggi chi in questi giorni esce di casa senza motivo valido senza misure di sicurezza adeguate evidentemente sta mettendo a rischio e quindi può provocare un danno e questo è un danno che deriva da un uso scorretto della socialità può provocare un danno ad altri individui evidentemente l'ambiente quindi sia l'ambiente sociale che l'ambiente naturale costituiscono il limite per quanto riguarda l'etica diciamo la sfera etica la sfera d'azione di ogni singolo essere umano è il limite e nello stesso tempo è anche il termine di confronto verso cui si dirigono a volte scontrandosi impulsi e desideri individuali allora il dirigersi beh immaginiamo un impulso naturale un desiderio positivo per così dire un desiderio erotico ecco questo desiderio erotico positivo o affettivo in senso lato può incontrare delle resistenze per esempio può incontrare il fermo di niego da parte della persona oggetto del nostro desiderio questo rappresenta come abbiamo detto una forma di diminuzione della potenza vitale quindi provoca tristezza e può provocare di con diciamo per converso può provocare odio cioè trasformare l'iniziale impulso amoroso in odio odio generato dalla consapevolezza che a provocare la nostra tristezza il nostro calo di potenza è un oggetto soggetto in questo caso esterno questi erano i termini il lessico che abbiamo utilizzato le scorse volte se vi ricordate d'altro canto non c'è soltanto questo caso c'è anche il caso di uno scontro tra impulsi vitali contrapposti per esempio in battaglia gli esseri umani si contendono il controllo di un determinato territorio o il controllo di una risorsa economica fondamentale in quel caso lì abbiamo desideri individuali o appartenenti a due collettività diverse che entrano in rutta di collisione anche qui è l'ambiente esterno in questo caso l'avversario il nemico che può evidentemente con il limitare la mia potenza espansiva la mia potenza vitale espansiva può provocare un danno tale limite tuttavia si sposta tanto più in là quanto più la nostra intelligenza è in grado di riconoscere il funzionamento delle leggi di natura e di accettarle in quanto tali che cosa significa cosa voglio dire voglio dire che effettivamente il limite il limite della nostra sfera etica è tanto più ristretto è tanto più ampio quanto più quanto meno ci facciamo un'idea chiara del funzionamento complessivo delle leggi di natura conoscere il funzionamento delle leggi di natura quindi conoscere l'infinita rete di relazioni che intratteniamo come singole parti del tutto con le altre parti ci porta a maturare quella convinzione quell'accettazione necessaria alla pace dell'animo per così dire lo dico in termini più semplici siamo disposti ad accettare e quindi a diminuire la portata angosciosa ansiosa della delusione di un determinato fenomeno di un determinato evento tanto più siamo in grado di capire quel determinato evento faccio un altro esempio faccio un esempio più concreto abbiamo ricevuto un diniego da una persona che era diventato un oggetto del nostro desiderio verso la quale nutrivamo un impulso erotico evidentemente quindi il diniego ci porta a maturare innanzitutto ci porta a provare tristezza e poi a maturare per converso una forma di odio tristezza odio sono evidentemente delle emozioni che poi diventano sentimenti negativi dolorosi che cosa si può fare? beh non ci si può impedire di sentire tristezza di stare male perché la diminuzione di potenza è collegata al desiderio e il desiderio è assolutamente naturale è assolutamente umano si può provare però a lavorare sulla nostra delusione amorosa cercando di comprendere le ragioni dell'altro le ragioni del nostro interlocutore ecco perché le parole le spiegazioni il parlarsi il curare le relazioni è fondamentale dunque capire le ragioni dell'altro capire i motivi del diniego provare a mettersi nei panni dell'altro non hanno soltanto come dire una funzione di pacificazione con l'altro ci lasciamo da buoni amici perché anche questo ha poco senso ma hanno immediatamente o con il passare del tempo una funzione rasserenante sul nostro stato d'animo interno ce ne stiamo facendo una ragione alla fine siamo riusciti a farci una ragione abbiamo capito il punto di vista dell'altro che poi il punto di vista dell'altro a turno può diventare o sarà anche il nostro punto di vista dunque tanto più siamo in grado di capire il funzionamento complessivo delle leggi di natura qui parliamo del funzionamento complessivo della psicologia umana delle modalità comportamentali degli esseri umani tanto più siamo disposti a farcene una ragione tra virgolette quindi ad accettare tali leggi tali leggi naturali tali leggi psicologiche e a comportarci in maniera adeguata e a provare sentimenti adeguati a trasformare sentimenti dolorosi depotenzianti in sentimenti positivi attivi e quindi siamo in grado di razionarci in maniera vittoriosa funzionale adeguata all'altro e a noi stessi spero di essere stato sufficientemente chiaro man mano che approfondiamo la conoscenza dell'altro del funzionamento delle leggi di natura diminuiamo la la sfera del male per così dire del danno potenziale che possiamo subire e ampliamo la sfera del nostro essere proattivi quindi facendo ciò espandiamo il nostro raggio di azione quindi diminuiamo di contro quello di passione diventiamo più attivi tanto più diventiamo attivi tanto meno ci scopriamo passivi e la differenza come abbiamo specificato nella precedente lezione la differenza tra azione e passione tra l'essere attivi e l'essere passivi sta nel grado di conoscenza nel grado di consapevolezza quindi ancora una volta possiamo dire questo ovvero che sulle emozioni per trasformarle in azioni piuttosto che in passioni possiamo lavorare e lavorare sulle passioni significa riconoscerne la loro funzione naturale la loro essenza naturale senza condannarle senza compiangerle senza deriderle ma comprendendole per quello che sono in noi stessi e negli altri rimane il fatto che siamo limitati il limite in quanto tendente all'infinito è in sé per sé ineliminabile ovvero possiamo progredire nella conoscenza nella consapevolezza all'inizio la nostra consapevolezza è piuttosto inadeguata quindi facilmente ci arrabbiamo diventiamo tristi diamo la colpa agli altri diamo la colpa al caso diamo la colpa a Dio poi finiamo con dare la colpa a noi stessi in ultima istanza quando abbiamo raggiunto un grado di consapevolezza superiore per così dire non diamo più la colpa né agli altri né a noi stessi né a Dio ma non diamo la colpa a nessuno perché il non dare più la colpa a nessuno significa l'essere riusciti tendenzialmente ad avvicinarci al punto di vista alla prospettiva del tutto naturalmente non raggiungeremo mai la prospettiva del tutto il nostro procedere in termini conoscitivi è un procedere per così dire asintotico immaginate uso il linguaggio della matematica la curva che si avvicina in maniera in progressione sempre di più alla retta senza mai effettivamente toccarla oppure si suol dire che le due la retta e la parabola si incontrano all'infinito e con il dire all'infinito significa che è qualcosa che sfugge alla nostra capacità di concettualizzazione cioè no no possiamo afferrare cum capio non posso farmene un'idea in termini concettuali posso però ecco immaginare presentire questo tendere all'infinito dunque la conoscenza è virtualmente la conoscenza del tutto è virtualmente potenzialmente raggiungibile ma questo tendere all'infinito fa sì che il singolo modo per quanto cioè il singolo individuo per quanto ci si possa avvicinare non la raggiungerà mai da qui deriva quel quasi che ho sottolineato nella lettura no ho virgolettato nella lettura cioè l'ultima frase di Spinoza e ai cui modi infiniti ci si può quasi adeguare quel quasi adeguare significa che anche il più sapiente tra gli uomini sostanzialmente non riesce a cogliere nella sua interezza il bene divino cioè non riesce a mettersi completamente nella prospettiva del divino se non no quel amor dei intellettualis di cui parlavo la scorsa volta se non in momenti particolari ci può riuscire il mistico ma non ci riuscirà mai completamente potremmo dire che l'amor dei intellettualis corrisponderebbe per usare un termine mutuato dalla visione orientale dal buddismo una sorta di nirvana il nirvana è la totale estinzione di ogni radice egoica e quindi il confluire della consapevolezza individuale nella consapevolezza del tutto per così dire l'accettare la realtà così com'è le cose così come sono per così dire per dirla invece con una terminologia yoga induista è far sì che proprio limitato piccolo atman che scriviamo con la lettera minuscola respiri all'unisono atman vuol dire appunto il respiro respiri all'unisono in armonia con l'atman con la maiuscola dunque con il respiro quel respiro che poi nella tradizione occidentale cristiana è diventato lo spirito il pneuma termine che utilizziamo anche nel cristianesimo il pneuma lo spirito è il respiro l'atman che indica proprio il respiro la funzione del respirare allora il respiro del singolo individuo alla fine tende a coincidere tende ad armonizzarsi con il respiro del tutto quell'atman con la maiuscola cioè il mio piccolo spirito confluisce cristianamente nello spirito santo nella comunione con lo spirito santo ecco così vi ho chiarito anche che cosa significano questi termini in ambito religioso qui con Spinoza siamo molto lontani dall'ambito religioso evidentemente quando lui parla di amor dei amor dei intellettualis sta parlando della facoltà razionale intellettuale intuitiva che è che è però quella dello scienziato dell'uomo di scienza del filosofo secientesco insomma quindi assomiglia di più al al concetto di esprit de finesse che abbiamo studiato in Pascal settima proposizione andiamo avanti e non è possibile che l'uomo non faccia parte della natura e non segua il suo ordine comune ma se si troverà fra individui che si accordino con la sua natura di uomo con ciò stesso la sua umana potenza ad agire sarà coadiuvata e favorita ma se invece sarà fra individui che non si accordano per nulla con la sua natura ben difficilmente potrà accomunarsi ad essi senza una grande trasformazione di sé il paragrafo è anche questo paragrafo è estremamente interessante per chi conosce la la biografia di Spinoza ne abbiamo parlato a suo tempo ha un sapere ha un sapore decisamente autobiografico Spinoza sta parlando della sua esperienza di vita vi ricordate Spinoza viene espulso dalla comunità giudaica di Amsterdam tramite la formulazione di un jerem un anatema un anatema che andava malediva l'individuo che lo riceveva e l'individuo era costretto ad allontanarsi in una sorta di quarantena obbligata anche lì vale che non si potesse avvicinare adesso non mi ricordo quant'era esattamente ma insomma parliamo di 4-5 metri forse anche qualcosa di più è come se fosse un appestato sostanzialmente non si poteva appestare e non poteva avvicinarsi alle altre persone non poteva rivolgere non poteva rivolgere la parola non poteva fare affari non poteva intrattenere discussioni era espulso da tutte le assemblee e così via Spinoza subisce anche una serie di aggressioni anche un tentativo di omicidio a un certo punto mentre sta camminando da solo per le strade di Amsterdam subisce un accoltellamento per fortuna la lama del coltello si impiglia nel mantello che lui portava e lui riesce a salvarsi insomma si fa soltanto un graffietto però rimane fortemente provato per questo motivo decise di vivere nascostamente non potendo cambiare i suoi interlocutori la famiglia era quella i religionari erano quelli dovette lavorare molto su se stesso per potersi ritagliare un posto piuttosto appartato di basso profilo faceva il molatore di lenti se vi ricordate nella società olandese del tempo e quindi lui l'ha provato sulla sua pelle questo isolamento che cosa sta dicendo che dall'etica si passa immediatamente senza soluzione di continuità alla sfera politica perché se si troverà se si troverà il singolo individuo tra esseri umani che sono in grado di accordarsi con la sua natura di uomo accordarsi con la sua natura di uomo vuol dire di intrattenere con lui delle relazioni adeguate positive con ciò stesso la sua umana potenza ad agire sarà coadjuvata favorita cioè le buone relazioni socio-politiche sono in grado di favorire l'emergere l'espandersi della nostra potenza individuale come dire ciascuno di noi è dotato di attitudini di potenzialità assolutamente naturali ha un talento ha un'attitudine che potrebbe mettere a disposizione dell'altro perché è animale sociale è animale prevalentemente relazionale lo stiamo vivendo in questi giorni siamo costretti a relazionarci per così dire utilizzando la tecnologia non possiamo relazionarci devisu sostanzialmente ebbene sentiamo la nostra potenza diminuita la sentiamo noi come insegnanti voi come studenti ma la sente qualsiasi essere umano al di là del danno economico che è un concetto molto tangibile ma decisamente più astratto in prima battuta ci sentiamo diminuiti ci sentiamo meno potenti e dunque più tristi effettivamente perché non riusciamo ad avere delle relazioni produttive con l'altro e in particolare perché non riusciamo a mettere le nostre attitudini le nostre capacità al servizio dell'altro almeno così la vedo io penso che anche gli altri esseri umani in maniera consapevole o inconsapevole la vedano o dovrebbero vederla in questa maniera tant'è vero che ciascuno di noi fa o tenta di fare la sua parte ecco allora se ci troviamo inseriti in una società in un ambiente che favorisce le nostre attitudini in senso espansivo cioè un insegnante molto motivato molto bravo a fare il suo lavoro ce ne sono molti in realtà si troverà tanto più a suo agio e renderà al meglio qualora sia inserito abbia a che fare con degli interlocutori interessati attenti e così via o meglio tanto più sarà in grado di trasformare di stimolare i suoi studenti trasformandoli in individui recettivi in grado di fornirgli un feedback stimolante e in realtà ci si stimola l'uno con l'altro il docente stimola lo studente il maestro stimola l'allievo l'allievo stimola il maestro ecco perché si dice che è triste è quel maestro che non viene superato dall'allievo anche perché il rapporto tra maestro e allievo come sappiamo è assolutamente bionivoco assolutamente aperto ma questo vale in realtà per ogni tipo di lavoro dunque pesa la società civile l'ambiente relazionale all'interno del quale siamo inseriti pesa e come quindi dall'etica stiamo passando alla politica in solitudine si può a malapena sopravvivere l'uomo è fondamentalmente un animale sociale e quindi diciamo facendo nostro facendo nostro l'allocuzione facendo nostro l'allocuzione di Aristotele è animale razionale politica on zone e contro la visione per esempio obesiana per cui l'uomo è naturalmente portato a scontrarsi con l'altro uomo quindi l'uomo l'individuo obesiano è una sorta di individuo antisociale quindi il conato alla socialità dell'essere umano qui Spinoza ecco da questo punto di vista concorda con Aristotele è strettamente connesso alla sua natura linguistica razionale cioè noi intratteniamo relazioni con gli altri esseri umani attraverso le emozioni di base ma poi siamo animali logico-razionali linguistico-razionali no? Infatti seguendo sempre le definizioni di Aristotele incontriamo il politicon-zone l'antropos politicon-zone di cui dicevamo prima che viene completato dall'antropos logicon-zone cioè animale linguistico-razionale relazionarci all'altro vuol dire intrattenere con l'altro rapporti linguistico-razionali senza il linguaggio la nostra socialità risulterebbe diminuita indubbiamente no? Ciò che ci procura gioia in sommo grado ovvero il godere delle cose della mente è strettamente connesso al soddisfacimento del bisogno di socialità che contraddistingue la nostra umanità ovvero i beni intellettuali che sono quelli che al massimo grado sviluppano potenziano la nostra natura umana quindi prodotti culturali ecco perché bisognerebbe investire di più sulla cultura sulla scuola non solo perché ci rendiamo poi conto in questi momenti di quanto la sventatezza la maleducazione sostanzialmente sono diffuse la non consapevolezza quindi nella scuola abbiamo bisogno anche per questo quando si dice di formare il buon cittadino si sta parlando sostanzialmente di questa cosa qui ma poi serve anche ad imparare a godere delle cose veramente importanti che sono i prodotti culturali quelli che oggi chiamiamo prodotti culturali i beni della mente il buon libro il buon film ma ecco ciò che ci procura gioia in sommo grado è strettamente connesso alla socialità c'è bisogno di qualcuno che lo scriva il libro c'è bisogno di qualcuno che lo produca il film che lo metta in circolazione e dunque per sviluppare al massimo grado la nostra capacità razionale intellettuale dobbiamo necessariamente metterci in relazione le idee sono relazionali ogni lettura ogni forma di studio è un mettersi in relazione magari con uomini vissuti mille anni fa poco importa è il contenuto è l'idea è il linguaggio che crea il ponte relazionale tra me e quell'individuo e mi fa sentire parte di qualcosa mi mette in relazione con un mondo molto più ampio di me dunque la conoscenza è sempre un essere in dialogo con l'altro come qualunque modo lo si voglia declinare questo concetto di altro l'essenza del conoscere e quindi l'essenza dell'umano visto che l'uomo è un animale che conosce è un animale aperto alla conoscenza un animale filosofico tra virgolette la sua essenza è relazionale essere in relazione con Heidegger filosofo novecentesco dirà che il dasein cioè l'esserci c'è la consapevolezza esistenziale del singolo individuo è anche contemporaneamente essenzialmente un mitsein un essere con cioè un essere in relazione con l'altro così come non esiste un logos per usare il greco che non sia un dialogos cioè un discorso un ragionare con tra tra il dia indica il tra quindi tra vuol dire con altro da me dunque nella teoria e nella prassi politica si tratta di trovare e realizzare il sistema di convivenza più idoneo compatibilmente alle circostanze storiche e culturali vada così affinché tale capitale bisogno perché è fondamentale possa esprimersi nella maniera più piena e ricca possibile ecco quindi creare gettare le basi di una società politicamente evoluta relazionalmente socialmente evoluta una società che abbia di mira l'espansione della conoscenza non solo e non solo e non tanto scientifico-tecnologica ma anche spirituale di consapevolezza dovrebbe essere l'obiettivo non solo della comunità in sé ma anche di ogni singolo individuo perché così come il singolo pesciolino si trova ad essere ben ossigenato a nuotare bene e a vivere positivamente in una boccia d'acqua pulita arricchita con le vitamine giuste mentre l'altro pesce soffre di un'acqua inquinata la stessa maniera il singolo individuo nonostante abbia capacità di adattamento più o meno significative tuttavia si troverà al meglio delle sue potenzialità nella possibilità di esprimere al meglio le sue potenzialità in una società in un ambiente politico in una comunità adeguata condizione essenziale per l'adeguatezza della comunità relazionale secondo Spinoza è la libertà di pensiero ovvero la libertà di ricerca scientifica e di ricerca filosofica di dialogo di espressione in pubblico nonché evidentemente la libertà religiosa e abbiamo detto che Spinoza è in effetti uno degli alfieri della libertà di pensiero anticipa da questo punto di vista è uno di quei filosofi secenteschi che anticipa ampiamente il pensiero del secolo XVIII la libertà di pensiero è sostanzialmente il principio fondamentale intorno al cui ruota la visione illuministica nonché la libertà religiosa è perché la libertà religiosa nel seicento ma anche nel secolo successivo evidentemente è strettamente connessa alla libertà di pensiero quindi la possibilità di fare una scelta religiosa in buona coscienza e di poterla comunicare in maniera significativa senza polemiche all'altro all'altro interlocutore quindi libertà religiosa e libertà di pensiero significano lo sappiamo già laicità laicità potere essere se stessi perché alla fine il luogo della libertà il luogo in cui si esprime la sorgente stessa della libertà umana è la coscienza è il pensiero ed è la possibilità di comunicare con l'altro da sé se tolgo questo ho tolto praticamente tutto libertà in ultima istanza è la cifra stessa della filosofia spinoziana libertà dalle passioni libertà di pensiero libertà di professione religiosa sono dunque facce della stessa identica medaglia quindi capite come etica e politica nella visione di Spinoza siano strettamente intimamente connessi e qui Spinoza sta dicendo questo sta dicendo se si troverà e io Spinoza mi ci sono trovato fra individui che si accordino con la sua natura anzi io non mi ci sono trovato del tutto che si accordino con la sua natura di uomo con ciò stesso la sua umana potenza da agire sarà coadjuvata e favorita ma se invece ecco l'esperienza negativa di Spinoza si troverà fra individui che non si accordano per nulla con la sua natura quelli che l'hanno espulso dalla comunità quelli che l'hanno perseguitato quelli che hanno tentato di pugnalarlo ben difficilmente potrà accomunarsi ad essi senza una grande trasformazione di sì non sta dicendo al diavolo tutti quanti mi ritiro in cima ad una montagna con voi non ci parlo più perché mi sono offeso sta dicendo comunque sia io rimango un animale sociale e devo fare uno sforzo enorme però in questo caso per potermi accompagnare per poter convivere con personaggi disinfatti cioè comunque la socialità viene al primo posto è irrinunciabile non è la vita solitaria quella che realizza la mia natura di uomo è la vita in comune ma in questo caso devo lavorare molto su me stesso devo lavorare molto sulle mie passioni affinché esse siano il meno nocive possibile affinché siano il più possibile sentimenti positivi grande lavoro proposizione ottava qualunque cosa si dia in natura che giudichiamo cattiva o che riteniamoci possa impedire di esistere e di godere della vita razionale ci è lecito allontanarla da noi per la via che ci pare più sicura e ci è invece lecito appropriarci e fare uso in qualunque modo di qualunque cosa si dia che giudichiamo buona ovvero utile alla conservazione del nostro essere e al godimento della vita razionale e in senso assoluto è lecito a ciascuno per diritto supremo e di natura fare ciò che giudica confacente alla sua utilità anche qui cosa sta dicendo Spinoza il bene e l'utile coincidono la stessa idea che abbiamo visto l'anno scorso che abbiamo ritrovato per esempio in Socrate e nella tradizione antica questo dunque è il criterio che occorre consapevolmente assumere a guida della propria condotta morale buono significa laicamente utile a conservarsi in vita vedete come morale e natura pensiero morale pensiero naturale ragione e emozione e sentimento sono strettamente collegati buono è ciò che biologicamente è funzionale a conservarsi in vita quindi possiamo dire una sorta di darwiniano istinto alla sopravvivenza nonché a godere della propria razionalità in espansione perché l'uomo non è soltanto sopravvivenza è anche razionalità razionalità che deve essere continuamente espansa messa alla prova è la sua virtus fondamentale come la virtù dell'aquila dell'aquila quella di volare alto e di essere un predatore rapace alla stessa maniera la virtù fondamentale dell'umano ci insegna una tradizione classica nonché quella rinascimentale e mettere a frutto la propria ragione la propria razionalità il fondamentale diritto alla vita nell'uomo si declina in un crescendo evolutivo espansivo sino al diritto alla conoscenza alla libera coltivazione ed espressione delle proprie prerogative artistiche scientifiche e culturali alla ricerca della felicità intesa come piena realizzazione del proprio equilibrio psicofisico morale è una specie di elogio antelitteram della libertà di ricerca e di insegnamento che è fissato negli articoli 33 e 34 della nostra costituzione sostanzialmente si dice la stessa cosa che se non si parla esattamente di felicità la ricerca della felicità è invece evocata per esempio all'interno della costituzione istituzione d'america ma insomma è assolutamente l'idea è assolutamente presente almeno in potenza anche nella nostra ricostituzione quindi che cosa deve fare lo Stato che cosa deve fare la comunità deve creare le condizioni che favoriscono lo sviluppo adeguato in termini psicofisici fisici in termini fisici la salute ma anche di salute mentale e fondamentalmente di espansione del singolo individuo più faremo della nostra società un terreno fertile per lo sviluppo delle energie vitali intellettuali culturali e così via dei singoli individui più renderemo la nostra società attiva forte potente in tutti i sensi non in solo senso culturale ma anche il senso economico evidentemente ecco perché cultura economia tecnologia scienza sono strettamente connessi nulla questa è la nona proposizione nulla sembra accordarsi di più con la natura di una cosa che gli altri individui della stessa specie e perciò nulla si dà per l'uomo di più utile per conservare il suo essere per usufruire della vita razionale dell'uomo guidato dalla ragione inoltre poiché nulla conosciamo tra le cose singole che più valga dell'uomo guidato dalla ragione in nulla uno può mostrare il proprio valore d'abilità e d'ingegno più che nell'educare gli uomini in modo tale che finalmente vivano sotto il dominio della propria ragione nulla ergo re magis potest unius quisque ostendere quantum arte et ingenio valiat quam in ominibus ita et ugandis ut tandem ex proprio razionis imperio vivant in latino e quindi anche qui è incredibile la modernità del pensiero spinoziano l'educazione alla razionalità è fondamentale per la felicità e per il benessere comuni ed individuali dell'intera società del singolo individuo abbiamo già detto questo è uno dei temi fondamentali dell'illuminismo settecentesco Spinoza è stato più che profetico dunque libertà razionalità e conoscenza procedono di pari passo questo dovrebbe essere l'imperativo categorico dell'istituzione scolastica in ogni ordine e grado qui stiamo facendo scuola questo è il nostro imperativo nulla conosciamo tra le cose singole che più valga dell'uomo guidato dalla ragione in nulla uno può mostrare il proprio valore ed abilità ed ingegno più che nell'educare gli uomini in modo tale che finalmente vivano sotto il dominio della propria ragione e questo è il compito del docente quello di formare persone consapevoli razionali e questo compito è un compito eminentemente civile ecco perché non si può formare il buon cittadino tanto meno il buon professionista o il tecnocrate o il manager di domani se non formiamo contemporaneamente e fondamentalmente l'uomo con la U maiuscola in senso razionale in senso civile e politico è questa consapevolezza che fa dei futuri cittadini degli uomini di valore consapevoli di se stessi ben realizzati e utili e ben disposti nei confronti della comunità tutta educare viene prima di istruire ovvero insegnare ai cittadini domani a prendersi adeguatamente cura di se stessi della comunità e dell'ambiente dell'ambiente in dialogo con gli altri questo viene prima di ogni forma di istruzione tecnica il saper fare delle cose senza il saper essere in questo senso non ha non ha luogo non ha senso è una contraddizione in termini non è reale non è reale dunque cosa significa significa che l'educazione in senso sentimentale ovvero l'imparare a trasformare le emozioni in sentimenti è assolutamente fondamentale è il cuore del nostro stare a scuola il cuore dell'educazione consiste proprio nello sviluppo di questa facoltà empatica se non insegniamo ai nostri giovani e se non impariamo noi in prima battuta a trasformare le emozioni in sentimenti quindi a darci consapevolezza della nostra natura intima e a trasformare le nostre pulsioni naturali le nostre energie naturali e i giovani ne hanno tantissime in qualcosa di positivo di consapevole in termini sentimentali di rasserenante e di positivo per la comunità tutta avremo fallito nel nostro compito fondamentale avremo creato degli uomini di mediati avremo creato delle persone insoddisfatte bisognose di aiuto non positive nei confronti degli altri ecco oggi ci fermiamo qui siamo arrivati all'inizio della proposizione 10 la prossima volta concludiamo il nostro ciclo di lezioni sull'etica spinoziana veniamo alla quarta lezione del nostro ciclo spinoziano stiamo leggendo l'appendice alla parte quarta dell'etica e siamo arrivati alla proposizione numero 10 cercheremo come sempre di utilizzare la lettura e la riflessione su spinoza o meglio con spinoza stiamo cercando di confilosofare insieme a spinoza per tirare via degli utili spunti di riflessione che ci servano ecco a dare valore senso e significato all'esperienza di quarantena che tutti noi stiamo vivendo oggi ecco spunti di riflessione utili per darci conto di quello che sta succedendo gli uomini in quanto sono trascinati l'uno contro l'altro da invidia o da qualche modo di odio sono tra loro avversi e di conseguenza tanto più temibili quanto più il loro potere supera quello di tutti gli altri individui della natura l'uomo è l'animale più potente in termini naturali perché è dotato di intelligenza ora tutto sta nel modo in cui questa intelligenza viene utilizzata può essere utilizzata in armonia con il tutto in armonia con la natura e dunque produrre effetti meravigliosi dare un contributo fondamentale all'armonia delle varie parti che compongono il tutto naturale oppure può rivelarsi terribile in quanto disarmonico in quanto produce elementi di contrasto che minano in qualche maniera o tendono a minare la compattezza del tutto in ultima istanza la natura divina di Spinoza così come la natura divina con la quale abbiamo a che fare noi alla fine farà tornare comunque i conti cioè per quanto l'uomo l'umanità possa essere potente il grado di trasformazione l'impatto antropico sul pianeta essere devastante o essere significativo almeno nei nostri occhi sappiamo che sul medio e sul lungo termine la natura ha un potere di riequilibrio che senz'altro cancellerà anche ogni traccia dell'umanità del passaggio dell'umanità su questo pianeta forse un giorno avverrà questa sesta o settima estinzione di cui si parla il pianeta si riapproprierà di se stesso rimane il fatto che effettivamente qui Spinoza sta mettendo direttamente in connessione l'incapacità di gestire le emozioni in particolare l'invidia e l'odio con la potenza usata in termini negativi quindi il fatto di essere terribili di poter essere assolutamente nocivi cioè un uomo per un altro uomo può essere lupo come ci insegna Plauto per esempio ops homo homini lupus oppure può essere un dio veus si vult come come aveva detto Terezio quindi terribile ma anche meraviglioso dipende dall'uso che fa delle sue emozioni o meglio dalla consapevolezza che ha delle sue emozioni ed ecco che in un'epoca come quella che stiamo vivendo in cui sostanzialmente la dimensione del globale è dimensione effettiva è la dimensione della diffusione del virus quindi quando parliamo di pandemia stiamo parlando di un ecosistema di un ambiente che non è più limitato al giardino sotto casa nostra o ai confini della cittadina o della metropoli in cui viviamo né del paese in cui viviamo è una dimensione effettivamente globale non ci sono confini e quello che avviene a livello macrocosmico per così dire si riflette sul microcosmo cioè sull'esperienza individuale sull'esperienza che stiamo facendo noi chiusi in casa con le nostre famiglie chi può naturalmente chi può rimanere a casa e quello che viviamo a livello microcosmico si riflette inevitabilmente sul macrocosmo a vari livelli cioè i nostri comportamenti individuali che siano responsabili più o meno responsabili o irresponsabili alla fine vanno a beneficiare o a nuocere all'intera comunità vedete che c'è un rapporto diretto tra la capacità etica del singolo del singolo individuo di lavorare sulle proprie emozioni vivendole come sentimenti proattivi e non come passioni cioè come emozioni che subiamo in maniera inconsapevolmente ecco da questa capacità dipende il suo senso di responsabilità che in questo caso significa il prendersi cura di se stessi rimanendo a casa ecco mentre l'irresponsabilità quindi l'incapacità di tenere a freno le emozioni si riflette o può riflettersi immediatamente in un vulnus in un danno che viene inflitto all'intera comunità da qui il collegamento immediato tra l'amore di sé tra l'amore proprio e l'amore per il prossimo amare se stessi come il prossimo o il prossimo come se stessi effettivamente significa questo perché la capacità che ha ciascuno di noi a livello introspettivo di lavorare su se stesso di purgarsi dentro di guardare le proprie emozioni e trasformarle in sentimenti positivi fattivi è ciò che lo mette in condizione di agire non semplicemente di reagire ma di agire in termini positivi empatici armonici con il resto delle persone ma non solo con le altre persone ma con il mondo che ci circonda quindi vedete che c'è un nesso significativo quello che per esempio il buddismo ci suggerisce a ogni pie spinto ovvero che all'ecologia in termini macrocosmici quando parliamo di ecologia parliamo di ecosistemi più o meno complessi all'ecologia in termini quindi fisici biologici corrisponde all'ecologia della mente se la nostra mente è pura e mente pura significa capacità di trasformare le nostre emozioni di vivere adeguatamente le nostre emozioni alla capacità di mantenere la nostra mente pura corrisponde anche la nostra capacità o incapacità evidentemente di mantenere puro armonico funzionale lo spazio che abbiamo intorno a noi spazio che non è semplicemente lo spazio fisico è lo spazio energetico è lo spazio relazionale quindi ognuno di noi ha una grandissima responsabilità e quello che può fare con se stesso allenandosi all'empatia alla conoscenza delle proprie emozioni è enorme o può tradursi in risultati effettivi grandiosi in relazione all'altro così come può effettivamente tradursi in qualcosa di estremamente nocivo estremamente terribile pensate all'irresponsabilità di quei soggetti che in preda al panico ecco dobbiamo comprenderle non ridere non piangere non detestare ma comprendere comprendere no? intelleggere dice Spinoza dobbiamo comprendere le emozioni ma insomma chi cede alle emozioni in senso passionale quindi si fa prendere dal panico fugge da nord a sud come è avvenuto una decina di giorni fa prima che iniziasse diciamo questa quarantena prima che il livello di zona rossa fosse steso all'intera penisola ecco chi si fa prendere dal panico evidentemente mette in rischio la vita degli altri quindi agisce in maniera irresponsabile da qui ecco la un'altra riflessione l'aggetto lì l'abbiamo già fatta in classe l'impatto antropico sull'ambiente è un impatto assolutamente devastante oggi evidentemente ne stiamo pagando le conseguenze ma questo impatto è tanto più devastante quanto più l'uomo spinozianamente parlando si sente o si immagina e questa è la critica che fa Spinoza ai suoi contemporanei si immagina governato da altre leggi da leggi extranaturali cioè non si sente parte modo parte integrante della natura ma si sente sottoposto a un'altra legislazione da qui il danno delle cosiddette religioni rivelate quelle delle tavole delle leggi e del sovrannaturale di cui parla Spinoza per esempio del tractatus teologico politicus del sovrannaturale come ordine di norme e di leggi assestante rispetto alla dimensione fisica quindi come se il comportamento dell'uomo non avesse un impatto immediato sull'ambiente naturale e non fosse governato dalle stesse leggi dell'ambiente naturale insomma come se inquinando l'acqua inquinando l'aria il problema ricadesse semplicemente su altri animali altri organismi ma non avesse nessun impatto su di noi evidentemente oggi la realtà che stiamo vivendo drammaticamente anche sulla nostra pelle ci sta dimostrando il contrario ora non abbiamo evidentemente non abbiamo un modo di stabilire scientificamente un nesso preciso tra l'inquinamento a livello globale del pianeta quindi l'impatto antropico e la diffusione del virus il virus evidentemente sono sempre esistiti ma si sono sempre accompagnati alla specie umana e l'hanno seguita in ogni suo mutando adattandosi come ogni forma di vita ogni suo spostamento quindi per esempio i virus non si sarebbero diffusi in maniera così terribile così virulenta il termine riprende proprio il virulento che viene proprio da virus se l'umanità non si fosse accorpata in tanti in agglomerati urbani densi come quelli di oggi insomma il virus non si sarebbe potuto spostare così rapidamente se non ci fossero state le tecnologie che tutti quanti noi conosciamo i viaggi aerei quindi un mondo globale e anche un mondo globalmente esposto alla diffusione del virus e quindi da qui una maggiore necessaria una maggiore consapevolezza da parte dell'umanità andiamo avanti proposizione numero 11 gli animi tuttavia non si conquistano con le armi ma con l'amore e la generosità beh la proposizione si commenta evidentemente da sola le armi qui le armi non sono soltanto le armi nel senso proprio della parola sono anche le tecnologie per esempio queste non sono in grado di conquistare l'animo di una persona soltanto le emozioni ben vissute quindi l'amore e la generosità evidentemente sono in grado di cambiare attivamente proattivamente il nostro stare al mondo e sull'interiorità in primo luogo è sulla nostra personale interiorità che dobbiamo lavorare per poi pensare di poter agire in maniera positiva sulla emotività sulle emozioni degli altri insomma c'è un nesso ben preciso tra il lavoro che ciascuno di noi fa su se stesso quindi l'amor di sé per così dire l'amor proprio inteso nel senso più puro più significativo del termine e l'amore per l'altro quindi tra la dimensione interiore intrapersonale e la dimensione interpersonale possiamo fare molto effettivamente lavorare su noi stessi lavorare a trasformare la nostra interiorità quindi a agire in maniera significativa sulle nostre emozioni trasformandole in sentimenti puri alti guardate bene qui non si tratta di qualcosa che è lecito qualcosa che non è lecito cioè non esistono sentimenti che nascono puri e sentimenti che sono impuri esistono flussi di energie neutre in un certo senso che però possono essere grazie alla consapevolezza che se ne ha possono essere in qualche maniera trasformate utilizzate termini armonici oppure termini disarmonici utili piuttosto che inutili e qui quando parliamo di utilità o di inutilità abbiamo in mente la sfera personale come primo cerchio di applicazione di questa armonia per così dire ma che poi si allarga come quando gettiamo per onde concentriche come quando gettiamo un sasso in uno stagno a comprendere tutto lo spazio che abbiamo intorno quindi il primo spazio è quello della relazione con gli altri con le persone che ci sono vicine con i nostri familiari e poi con la società più ampia con l'intera cittadina in cui viviamo piuttosto che la nazione e così via oggi parliamo anche indubbiamente di globo di concezione globale del mondo a confermare questa vicinanza quindi l'omogeneità di funzionamento tra la dimensione microcosmica personale e la dimensione macrocosmica a livello sociologico l'antropologia culturale negli anni 90 ha coniato un termine glocal che unisce le due parole globale e locale e sostanzialmente avvicina come nella visione rinascimentale il microcosmo al macrocosmo dunque quelle leggi quantistiche che valgono all'interno del singolo atomo anche nel mondo delle sub particelle valgono anche in ambito macrocosmico così dire a livello galattico dunque quello che avviene a livello energetico nella mente nell'interiorità della singola persona vale inevitabilmente anche se si manifesta si espande e obbedisce alle stesse logiche che valgono a livello interpersonale a livello sociale e così via e questo ce lo insegna anche diciamo la situazione presente è il comportamento virtuoso funzionale del singolo individuo il comportamento responsabile del singolo individuo che si rivela assolutamente giovevole oppure può rivelarsi qualora si muti in comportamento irresponsabile estremamente dannoso per la comunità intera quindi lavorare su noi stessi in questo caso coltivare la consapevolezza che è un comportamento corretto osservare in maniera rigorosa la quarantena mettere al sicuro se stessi e gli altri nello stesso tempo è assolutamente doveroso non giova soltanto all'individuo ma giova anche all'intera comunità quindi è abbastanza chiaro la dimensione etica personale e interpersonale ma poi quella pubblica comunitaria quindi politica più generale e qui quando parliamo poi di politica ripeto non ci allarghiamo soltanto alla dimensione cittadina ma arriviamo fino a quella nazionale anzi dobbiamo arrivare a quella globale perché tutto quello che avviene nel mondo sostanzialmente ci riguarda non può non riguardarci ecco quindi l'atteggiamento responsabile del singolo si ripercuote a cascata come flusso energetico positivo nel nel benessere complessivo della società e viceversa i gesti di irresponsabilità sono pagati in prima persona dalle persone che se ne fanno diciamo artefici e riguardano però infettano anche gli altri il virus l'epidemia da virus ci dice esattamente questo ci sta insegnando questo ci sta insegnando ci sta confermando una cosa che dovrebbe essere sotto gli occhi di tutti cioè che tutto quello che riguarda l'umano riguarda anche me ben inteso siccome l'umano è parte della natura tutto ciò che riguarda la natura che altera che sconvolge l'ecosistema che altera i rapporti energetici all'interno dell'ecosistema non può che riflettersi anche sul sottoscritto da qui quelle considerazioni che facevo prima sull'uso il più consapevole possibile delle tecnologie perché le tecnologie evidentemente hanno a che fare con la nostra biologia quindi hanno a che fare anche con con il virus con l'epidemia che oggi non è più nemmeno l'epidemia ma è diventata pandemia visto che è di tipo globale non riguarda soltanto l'Italia piuttosto che la Cina ma riguarda il mondo intero dunque proposizione 12 agli uomini è in primo luogo utile stabilire relazioni e collegarsi tra loro con quei vincoli che più sono adatti a unirli in un solo tutto e in senso assoluto a fare ciò che giova a consolidare le amicizie evidentemente è così è utile ciò che è bene è anche utile vedete qui non è che uno lo deve fare deve essere amico deve essere caritatevole deve essere positivo nei confronti del prossimo perché lo comanda a Dio in base a un volere imperscrutabile e così via ma perché è utile è buono è quello che è buono e giusto qui ed ora è buono e giusto anche anche domani anche dopo domani è vero per me è vero per i miei figli sarà vero per i miei nipoti non c'è una data di scadenza né c'è l'obbedire a questo a quel comandamento non è qualcosa di dogmatico che risponde a un ordine per così dire sovrannaturale stranamente spirituale o diversamente spirituale è utile perché è naturalmente corretto dunque l'effetto positivo di una buona condotta etica non è qualcosa che otteniamo in un secondo momento non è un fine al quale lavoriamo o in attesa del quale lavoriamo ma è una qualcosa che sperimentiamo immediatamente cioè la virtù è realmente premio a se stessa e in che cosa consiste la virtù? Beh consiste nell'unirci nel creare vincoli positivi nel consolidare le amicizie più l'ambiente che abbiamo intorno è positivo e più noi contribuiamo a mantenerlo tale più evidentemente l'individuo il singolo individuo si giova come potrebbe essere altrimenti di tale ambiente è la responsabilità di ciascuno di noi questo ovviamente è il punto a cui tendere quello che tutti quanti noi auspichiamo ma proposizione numero 13 Spinoza è assolutamente realista ma per questo si richiedono abilità e vigilanza non lo possiamo dare affatto per scontato non è affatto semplice non è semplice la virtù è qualcosa che si guadagna faticosamente attraverso un percorso educativo lento costante pieno di intoppi allora dice Spinoza poiché gli uomini sono mutevoli rari sono in effetti quelli che vivono secondo quel che prescrive la ragione molto rari e tuttavia per lo più invidiosi e inclini più alla vendetta che alla misericordia c'è dunque bisogno di una particolare forza d'animo per sopportare chiunque a seconda del suo carattere trattenersi dal limitare gli altrui moti dell'animo quelli però che sono capaci di rimproverare gli uomini e di deplorare i vizi piuttosto che insegnare le virtù e non di rinforzare ma di fiaccare gli animi umani sono fastidiosi a sé e agli altri per cui molti per troppa insofferenza e per un falso zelo religioso preferiscono vivere tra le bestie piuttosto che tra gli uomini come dei ragazzi o degli adolescenti che non riescono a sopportare con animo sereno le rampogne dei genitori e scappano a fare i militari e scelgono i disagi della guerra e il dominio tirannico piuttosto che le comodità della casa e le paternali lasciandosi addossare qualunque fardello sia loro imposto pur di punire i genitori questa proposizione è piuttosto lunga è la numero 13 è sostanzialmente la cifra dicevo prima del realismo spinoziano abilità e vigilanza sono richieste per costruire questa società armoniosa in cui prevalga il senso di responsabilità dell'uno nei confronti dell'altro quindi le amicizie come elemento fondamentale di una società pacifica libera produttiva ecco se lo vogliamo dire in termini politici è un luogo una società in cui è buono è giusto ed è anche piacevole e libera gli uomini però purtroppo nella gran parte sono così sono mutevoli piuttosto rari dice spinoza sono quelli che effettivamente si affinano alla ragione e per lo più sono invidiosi inclini alla vendetta piuttosto che alla misericordia l'invidia l'odio il rancore non sono qualcosa da cui prendere le distanze come se la cosa non ci riguardasse tutti quanti noi li conosciamo evidentemente dal modo in cui affrontiamo queste emozioni e proviamo a trasformarle che si può stabilire una buona o una cattiva condotta etica ecco immaginiamoci le emozioni come delle delle energie dei nuclei di energia il nostro modo di utilizzare questi nuclei di energia e di trasformarli usando la testa usando la ragione per stare meglio con noi stessi quindi nel rapporto intrapersonale e con gli altri nel rapporto interpersonale vedete che i più sostanzialmente ma anche noi ci mettiamo anche noi tra i più dipende dalla consapevolezza che abbiamo di questo tipo di processi i più tendono ad essere inclini alla rabbia all'invidia se pensate realisticamente al modo in cui i più imbrattano i forum di discussione a piedi pagina dei giornali quotidiani online dei blog piuttosto che dei social network spesso sono luoghi in cui prende forma a parole o in immagini l'invidia la rabbia i sentimenti più bassi dell'invidia della rabbia siamo tutti quanti consapevoli e in qualche maniera tutti quanti sentiamo il bisogno di purificarci è come lavarsi le mani dopo essersene sporcate alla stessa maniera dobbiamo costruire una sana ecologia dello spirito ecco che il buddismo per esempio ci propone questa immagine dell'ecologia personale interiore come forma di di relazione positiva con l'ecosistema più ampio che è quello delle relazioni interpersonali con le persone che ci circondano che poi si allarga all'ambiente in termini di ecosistema quindi gli animali le piante fino a comprendere il pianeta tutto madre natura tutta quindi lavorare su noi stessi lavorare su queste su questi nuclei di energia trasformando l'invidia in accettazione in gioia trasformando l'odio in amore lo spirito di vendetta in perdono è fondamentale perché in primo luogo ne beneficiamo noi stessi perdonare fa bene in primo luogo la persona che perdona oltre che la persona che viene perdonata ma in primo luogo la persona che perdona e riuscire a perdonare significa riuscire a purificare a fare pulizia dentro richiede è una forza d'animo enorme ma è su questo che si gioca la differenza tra un comportamento etico e un comportamento anti-etico cioè un comportamento armonioso rispetto al tutto rispetto alla società civile alla natura in senso lato è un comportamento invece disarmonico quindi Spinoza consapevole di questo è anche consapevole ben conscio dell'esperienza esistenziale autobiografica che ha vissuto fino a quel momento dichiara che ci vuole una particolare forza d'animo per sopportare chiunque a seconda del suo carattere e trattenersi a limitare gli altri modi dell'animo cioè evidentemente quando qualcuno ci fa oggetto di contumelie o ci ci vomita contro la sua rabbia no? pensate all'attentato di cui fu fatto oggetto Spinoza no? alla persecuzione che dovete subire beh di primo di primo acchitto questa roba qui credo che l'abbia conosciuta molto bene l'abbia sperimentata in prima persona di primo acchitto uno è portato a reagire non ad agire in maniera consapevole ma a reagire non conta fino a dieci se qualcuno ti vomita addosso la sua rabbia tu tendi a fare la stessa cosa tendi a alzare la voce più di lui perché pensi che alla fine alzare la voce in ottava più alta rispetto al tizio che ti sta lanciando in properi serva in qualche maniera a vincere la partita a liberarti da quel senso di soffocamento di dolore interiore che la rabbia ti provoca ecco mentre in realtà sappiamo benissimo che no non si risolve nulla l'odio chiama altro odio la rabbia quando alziamo la voce si alimenta come un fuoco che cresce sempre di più e l'unico modo per spegnere il fuoco non è quello poi di strangolare la rabbia gettandoci sopra dell'acqua gelata ricorrendo all'autocastigo all'autocensura alla morale come si ricorrerebbe ad un martello che viene sbattuto sulla parte che va in qualche maniera tenuta sotto controllo ecco no il lavoro è molto più lento è molto più complesso perché si racconta innanzitutto di accoglierla questa rabbia di accogliere questa invidia questo odio che ci monta dentro e di accoglierlo nel senso anche di valutarne la portata energetica per poi trasformarlo per poi cambiarne per così dire la destinazione d'uso il colore ma è un'operazione che richiede molta molta pazienza un grande lavoro su se stessi ecco perché Spinoza qui sta dicendo che spesso e volentieri la maggior parte della gente preferisce vivere come bestie piuttosto come uomini molti ragazzi giovani adolescenti preferiscono partire lontanarsi da casa dedicarsi al arruolarsi nell'esercito fare i militari all'epoca fare i militari era qualcosa di assolutamente terribile dovevi essere veramente un disperato per andare al fine dell'esercito ancora non esisteva la leva obbligatoria in genere esserlo erano i poveri disgraziati che non avevano né arte né parte quindi molti preferiscono fare i militari piuttosto che rimanere a casa e sopportare le paternali dei genitori come dire alla fine il vero coraggio quello che paga di più non è l'alzata di testa improvvisa rispondere alla pressione con un gesto di libertà eccessiva scrollandosi di dosso tutto e tutti reagendo per così dire l'impulso è molto più significativo molto più virtuoso molto più coraggioso ecco molto più virile il lavorare su se stessi il sopportare l'affinare la pazienza richiede molta più consapevolezza questo è il motivo per cui alla fine il processo educativo è un processo lento complesso ed è un processo che va fatto in prima persona guardandosi negli occhi evidentemente perché qui parliamo di energie ed è esattamente questo che ci sta mancando questo apriamo un'altra finestra un altro spunto di riflessione sui stati d'animo che stiamo vivendo tutti quanti perché poi siamo portati ad apprezzare a dare valore alle cose quando le cose quotidiane sostanzialmente non sono più a nostra disposizione ebbene anche ecco fare lezione parlando davanti allo schermo di un computer è un'esperienza un po' al limite io riesco fino a un certo punto a svolgere questo ruolo mi faccio forza per svolgere questa funzione di docente ma riesco a dire le cose che dico e a mantenere un minimo di lucidità perché ho in mente un ricordo a livello di stati d'animo i flussi energetici che ci si scambiava in classe quello è fondamentale non le parole che dico non l'istruzione in senso astratto i concetti che uno impara o non impara che possono servire o non servire per superare un'interrogazione quello che conta effettivamente sono i flussi energetici che si stabiliscono che sono assolutamente immateriali assolutamente indicibili assolutamente non quantificabili non si possono misurare con i testi invalsi non si possono misurare e tradurre in voti e sono e sono questo come dire il sale dell'educazione intesa come tirar fuori imparare a stare al mondo che significa imparare a gestire le proprie emozioni cioè a conoscere se stessi in maniera consapevole e per fare questo ricordo c'è bisogno di tanto tanto tempo di tante tante energie di tanta tanta frequentazione perché alla fine dei nostri incontri di pratica filosofica in gruppo anche coppia quelle individuali per esempio della consulenza filosofica quello che emerge quello che rimane quella sensazione di maggiore o minore benessere comunque di riacquistata armonia o di perché si sono messi a tacere sono pacificate si sono rielaborate le emozioni spesso diciamo frammentate quindi taglienti che ciascuno di noi ha sperimentato chiuso a volte in una sorta di individualismo illusorio che ha sperimentato in prima persona e che non ha potuto condividere ecco il lavorare filosoficamente in questo Spinoza ci torna veramente utile veramente prezioso serve fondamentalmente a acquistare questa questa dimensione che poi è quella che ti porta a lavorare su te stesso dunque educare richiede tempo richiede energie qualitativamente significative ed è l'arte di trasformare queste energie in termini armoniosi è l'arte del creare relazioni armoniose e per creare relazioni armoniose al di là della bella parola o del bel discorso retoricamente didatticamente ben costruito è necessaria la buona capacità di relazione lo stiamo vedendo oggi proprio perché oggi questa cosa qui effettivamente ci manca ne sentiamo fortemente il bisogno quindi nessuna lezione pronunziata dinanzi allo schermo di un computer può sopperire alla mancanza di dinamica energetica di prossimità ecco chiamiamola così non mi voglio adesso incartare nelle mie stesse parole ci siamo capiti insomma ma ecco io riesco a fare questo ancora perché ho in mente i vostri sguardi ho in mente i sentimenti ho in mente le esperienze precedentemente vissute altrimenti parlare con dei soggetti immaginari mi riuscirebbe assolutamente peggiore di come già sto facendo adesso veniamo all'ultima proposizione dunque la quattordicesima dunque sebbene gli uomini regolino per lo più ogni cosa secondo i loro istinti dalla comune società con loro provengono molti più vantaggi che danni perciò è meglio sopportare con animo sereno le loro offese le offese di questi personaggi negativi e impegnarsi in ciò che serve a conciliare la concordia e l'amicizia quindi Spinoza nella proposizione 12 aveva sottolineato quello che doveva essere l'optimum cioè che gli uomini giova in primo luogo stabilire relazioni significative collegarsi tra di loro e con vincoli amicali questa è l'idea di società perfetta quella a cui bisogna mirare nella proposizione tredicesima abbiamo visto tuttavia realisticamente nota non può non notare come la maggior parte degli uomini siano più inclini ad essere invidiosi più inclini alla vendetta alla rabbia eccetera eccetera piuttosto che alla misericordia e quindi questo per realizzare il primo obiettivo che non va affatto scartato non è che dice no è impossibile non lo posso realizzare beh no lo posso realizzare ma richiede un impegno estremamente lungo faticoso un grande dispendio di energia è un'energia che serve a trasformare e a rendere positive altre energie no? sforzo dedizione questa educazione e con la proposizione 14 invece Spinoza nota che indubbiamente qualunque sia la situazione indubbiamente anche se i più sono disarmonici poco razionali sono più preda dei loro istinti piuttosto che di una gestione armonica consapevole delle proprie emozioni cioè quindi animali che ragionano e trasformano le emozioni in sentimenti ecco nonostante questo è meglio comunque vivere in società è meglio la comune società piuttosto che l'anarchia cioè anche se no no la concordia assoluta anche se l'amicizia rimane a pannaggio di pochi provengono molti più vantaggi che danni all'uomo all'individuo al singolo individuo dal vivere in società piuttosto che dal vivere in maniera assolutamente asociale o antisociale che un pochino riprende la visione obesiana dello stato di natura quindi la società civile per quanto degenerata essa possa essere rimane uno stato migliore rispetto alla all'anarchia lo stato di natura la guerra di tutti contro tutti quindi è meglio sopportare con animo sereno le offese fare buon viso a cattivo gioco piuttosto che rompere tutto e dedicarsi ad andarsene a vivere per il proprio conto ammesso che questo sia possibile per concludere citiamo il lavoro di un illustre neuroscienziato portoghese Antonio Damasio è un lavoro pubblicato nel 2003 si intitola alla ricerca di Spinoza emozioni sentimenti e cervello Antonio Damasio mostra come nel sistema mente-corpo si danno due diversi livelli di percezione degli affetti il primo è quello emozionale basato su meccanismi di reazione chimica ad impulsi endogeni o esogeni che condividiamo con gli altri animali da questo punto di vista noi uomini siamo esattamente come gli altri animali il secondo invece è quello sentimentale che consiste nel riconoscimento di tali affetti o impulsi che dir si voglia con la creazione a livello neuronale di una mappa corporea consapevole di tale emozione dunque adesso sto diciamo per così dire riassumendo concetti che ho utilizzato nel corso nelle spiegazioni e che in parte derivano dalla lettura di Antonio Damasio che è una lettura scientifica adegua per così dire il discorso spinoziano ai termini al lessico e alle scoperte della scienza contemporanea dunque per quanto riguarda la parola emozioni la dimensione emozionale l'uomo è esattamente come gli altri animali quindi qui si parla di reazione chimica ad impulsi endogeni cioè interni oppure esogeni che vengono per così dire dall'esterno reagiamo impulsivamente reagiamo distinto tuttavia c'è un altro livello un secondo livello quello dell'interprete per così dire che si chiama sentimentale lui definisce sentimentale Damasio definisce sentimentale che consiste nella capacità di riconoscere quindi diventare consapevoli di questi affetti o impulsi creando a livello neuronale una vera e propria mappa corporea che è consapevole di questa emozione questa mappa corporea di fatto è interattiva quindi consente al singolo di interagire con le proprie emozioni con i propri impulsi può essere implementata per mezzo di livelli ulteriori consapevolezza collegati allo sviluppo del pensiero simbolico quindi più sviluppiamo il pensiero simbolico più sviluppiamo il nostro linguaggio più diventiamo consapevoli delle nostre emozioni quindi più diventiamo attivi e non reattivi rispetto ad esse più le conosciamo meglio le possiamo utilizzare su questa distinzione fondamentale tra emozione e sentimento Damasio tratteggia e dimostra in termini scientifici ciò che Spinoza aveva dimostrato in termini filosofici quindi con un linguaggio diverso il linguaggio dello scienziato del ventesimo ventunesimo secolo rispetto a quello del filosofo del secetto e su questo sostanzialmente si basa la veridicità teoretica e la utilizzabilità anche in termini scientifici della visione di Spinoza quindi pensate quanto è attuale la visione di Spinoza non solo in termini filosofico morali di analisi del vissuto i spunti di riflessione effettivamente ne abbiamo citati tanti ma anche come chiave di lettura per accostarsi alla scienza contemporanea come dire spesso la scienza contemporanea magari con termini diversi con attraverso metodologie diverse non fa altro che confermare delle cose che magari gli antichi sapevano bene qui non parliamo di un antico parliamo di un moderno quindi a maggior ragione è un uomo che quattro secoli fa è riuscito ad immaginare a tratteggiare delle cose che oggi ci sono molto ben presenti quindi molto moderno il nostro amico Spinoza gli affetti dunque in quanto tali lo sappiamo sono incoercibili sono incancellabili non ci possiamo fare nulla da qui la polemica che Spinoza intrattiene con i moralisti che spesso fanno delle loro rimprove dei loro rimbrotti fanno lo strumento l'arma con cui credono di poter dominare gli istinti delle persone esterpare il peccato in realtà stanno creando situazioni ancora più spiacevoli quindi le emozioni non le si trasforma reprimendole battendole con il martello della morale si ottiene esattamente l'effetto opposto si trasforma con un lavoro lento che però è un lavoro di accoglienza di comprensione così come cerchiamo ci dobbiamo sforzare anche se è estremamente difficile di accogliere di diventare una sorta di mare rispetto ai fiumi o ai rigagnoli rappresentati dalle emozioni che ci giungono dalle altre persone chi ascolta veramente in senso empatico in quel momento si sta facendo mare mare in cui quel fiume quel corso d'acqua può in qualche maniera rifluire e trova pace in quel mare cioè trova empaticamente comprensione ecco la stessa maniera che il singolo soggetto più o meno psicologicamente evoluto riesce a mostrarsi empatico amichevole con il prossimo alla stessa maniera noi dobbiamo gestire le nostre emozioni arriva l'emozione e la devi accogliere la devi accettare per quello che è nonostante la sua portata dolorosa solo facendo questo possiamo iniziare a trasformarla no? possiamo creare quello strato intermedio quell'interprete di cui dicevamo prima che consente a livello proprio neurologico di trasformare l'emozione in sentimento no? quindi di sviluppare quella parte prefrontale della nostra intelligenza che è funzionale alla consapevolezza e che è quello che poi ci distingue dagli animali che sono puramente istintuali noi siamo animali culturali la ragione quindi non è da intendersi come una forza distruttiva delle passioni la facoltà del vade retro ecco l'ho definita così qualsiasi combattimento frontale fra ragione e passione porta inevitabilmente alla sconfitta della ragione ecco quindi se uno si immagina la ragione come l'antidoto della passione sbaglia grandemente ecco perché anche la distinzione la dicitura ragione e ragione versus ragione contro passione è sostanzialmente sbagliata perché la ragione non è contro la passione non può essere contro la passione se fosse contro la passione perderebbe in ogni caso vincerebbe la passione la ragione è alleata non può non essere alleata della passione se vuole ottenere ovviamente degli effetti positivi ecco innanzitutto prima che essere un animale razionale l'uomo è un animale desiderante animal desiderance lo definisce Spinoza senza che poi ci sia una reale contraddizione tra le due definizioni quindi se per ragione intendiamo l'investimento di energie conoscitive volte alla soppressione al controllo alla manipolazione delle emozioni ebbè finiamo inevitabilmente col produrre un conato un impulso desiderativo privo di senso e di reale efficace quindi perdiamo potenza quindi se con ragione intendiamo questo tipo di controllo questo tipo di manipolazione questo tipo di violenza su noi stessi inevitabilmente ci esporiamo una perdita di potenza la partita è persa sin dall'inizio anche perché si mettono in contrapposizione realtà che solo apparentemente sono distinte ragione e passione in realtà sono un tutt'uno sono un qualcosa di armonico ed è a questa armonia che dobbiamo montare ragione dunque va intesa piuttosto come capacità di chiarificare i processi naturali di cui siamo parte e di pensarsi al loro interno secondo i propri principi di uxta propria principia cioè le leggi di natura occorre conoscere bene le leggi di natura abbiamo già detto oltre alla ragione analitica vi è l'intuizione l'amor dei intellectualis che non consiste più nel pensarsi bensì nel sentirsi sentirsi qui ed ora come particella fluidamente trascorrente del tutto siamo parte di un tutto ci dobbiamo sentire intuire immediatamente parte del tutto e quando siamo parte del tutto e ci sentiamo intimamente connessi con il tutto con la natura tutta evidentemente quella distinzione più o meno netta che subiamo tra la passione e la ragione viene meno in altre parole l'amore intellettuale di Dio implica che l'elemento passionale l'amore amor una volta sublimato uso qui un termine freudiano si accompagna all'elemento conoscitivo che non è più ragione nel senso di calcolo bensì è intelletto nel senso di quella facoltà dell'intelligere che va dentro le cose intus per raccogliere leggere questa è l'etimologia del verbo latino leggere per raccogliere il senso che abbiamo penetrato quindi e andare dentro come un ago che si infila dentro il midollo del reale il midollo delle cose il senso più profondo delle cose per estrarne raccogliere ed estrarne il succo questo è l'intelletto quindi non è più calcolo nel senso geometrico matematico calcolare significa disporre le pietruzze questo è il significato il calcolum calcolum è la pietra calcolare significa disporre le pietruzze una appresso all'altra per quantificare una distanza da a b per esempio l'intelletto nella terminologia nel lessico spinoziano è la capacità di penetrare dentro le cose dentro il midollo delle cose quindi della realtà della natura per raccoglierne il senso più profondo quindi l'intelletto di spinoza assomiglia all'intuito a quella frida finesse di pascale di cui abbiamo detto le passioni quindi non si non si vincono ma si scelgono in funzione della gioia che si connette con la comprensione sia in rapporto a se stessi che in rapporto con gli altri e quindi vanno privilegiate evidentemente le relazioni che servono a consolidare i rapporti di amicizia e di mutuo soccorso dagli esseri umani piuttosto che quelle che ci separano che creano discordia che creano malumori insomma è una questione economica siamo animali razionali nella misura in cui consapevoli dell'economia delle nostre emozioni delle nostre emozioni delle energie che ci muovono dentro scegliamo quelle più significative quelle più produttive scegliamo di dare seguito quindi di prediligere quel tipo di emozione e di trasformarla in un determinato sentimento fino a trasformarla a farla diventare un vero e proprio abito piuttosto che quelle emozioni negative che ci fanno perdere potenza il rancore ci fa perdere potenza l'invidia ci fa perdere potenza ci fa vivere male e non fa vivere male soltanto l'altro perché poi diventa nocivo anche a livello sociale ma fa vivere male in primo luogo noi stessi quindi sopportare con pazienza le emozioni negative che ci giungono dall'esterno l'invidia l'odio la rabbia tutti quanti ne abbiamo nozione perché lo viviamo tutti i giorni ed evitare per quanto possibile i vampiri di energie positive li ho definiti così i vampiri di energie positive sono i vecchi ma anche i giovani tromboni moralisti quelli tra cui si scaglia Spinoza o Gesù quando parla di sepolcri imbiancati gli idioti militanti che elengono le loro categorie immaginative distorte a criteri giudizi universali quelli che pensano di contarci di farci conti per così dire dentro di fare le pulci alla nostra interiorità alla nostra moralità dettando questo a quella norma come se uno la potesse applicare così dal nulla senza viverla in prima persona e dunque in ultima istanza ecco la vera conoscenza è quella delle cose particolari evidentemente quindi è la conoscenza che abbiamo di noi stessi bisogna sta nel termine intelletto bisogna sapere entrare nelle cose stare nelle cose insieme alle cose quindi sentirsi parte del tutto ragionare in termini per così dire ecosistemici in termini ecumenici questa è la peculiarità del fare filosofia della filosofia in pratica essa si serve sì dei concetti generali ma non li usa per alzare barriere per catalogare mettere sentenze no distinguere i neri dai bianchi comunitari degli extracomunitari e le varie confini tra un mondo e l'altro come se questi confini avessero qualche effettivo valore in termini naturali in termini ecosistemici stiamo vedendo come tutte le convenzioni umane vengono come dire vengono spazzate via dimostrano la loro la loro irrealità la loro natura illusoria di fronte al diffondersi del virus è un fenomeno naturale indubbiamente è un fenomeno naturale che si diffonde in maniera tanto più mortale tanto più endemica quanto più gli uomini sono vittime delle loro illusioni delle loro finte separazioni dei loro prigionieri del loro individualismo dei loro pregiudizi mentre riusciamo in qualche maniera per dirla con Spinoza riusciremo a far fronte alla malattia a diffondersi del virus uno seguendo la ragione analitica quella cartesiana il secondo livello di conoscenza di cui parla Spinoza quindi seguendo le indicazioni della scienza e oggi ne abbiamo profondamente bisogno da una parte in secondo luogo seguendo il nostro spirito empatico questo discorso dell'intelletto come essere parte di un tutto essere parte di un tutto vuol dire assumersi la responsabilità delle proprie azioni in relazione al mondo che ci circonda quindi ai nostri cani in primo luogo alla società civile e a tutte le persone con le quali siamo direttamente o indirettamente in relazione ed è appunto questa la facoltà che chiamiamo empatia io chiamo empatia non solo io naturalmente che non ha nulla di mistico di trascendentale ma rappresenta il vero ponte per dirla con Damasio tra l'istinto e il sentimento cioè tra la mente e il corpo tra la consapevolezza e la sensazione organica la corporeità in prima persona quindi è qualcosa di estremamente naturale nulla di trascendente nulla di sovrannaturale e con questo termino oggi abbiamo messo molta carne al fuoco ne riparleremo indubbiamente buon lavoro un altro